Buon pomeriggio a tutti. Cerchiamo di iniziare in tempo per finire con un limitato ritardo. Ci saranno sicuramente altre persone che arrivano. Oggi è, come sempre, in sanità una giornata importante. Tutti i giorni in sanità è una giornata importante. Oggi ognuno di noi sa che in qualche modo il pensiero è dedicato al tema del pancreas, al tumore del pancreas, ma al pancreas in generale. Perché l'ospedale territorio sulle malattie pancreatiche ha certamente un ruolo importantissimo perché il tema del pronto soccorso prevede che sia che uno abbia una malattia acuta, pensiamo a una colica biliare, a una pancreatite acuta o addirittura malattie oncologiche di cui parleremo oggi, si ritrova al pronto soccorso e da lì parte tutta una serie di situazioni legate alle prese in carico, soprattutto in un'ottica che non può che non essere, noiosamente lo dico perché se ne parla da tanti anni, multidisciplinare. Ed è il motivo per cui siamo seduti in tre e siamo solo in tre, perché per fare un multidisciplinare sul pancreas le figure professionali che devono interagire con questi malati sono ben più che tre. Do subito la parola al professor Ercolani e poi al dottor Frassinetti per un saluto. Non voglio rubare tempo, quello che voglio solo sottolineare è che come già fatto l'anno scorso, dentro l'area di Forlì e Meldola abbiamo costruito insieme un gruppo di professionisti che si dedicano a tutto tondo alle patologie pancreatiche e così in occasione di questa giornata l'idea è quella di sensibilizzare tutti quanti, tutte le persone, non solo nel mondo sanitario ma anche nel mondo civile, quelle che sono le problematiche delle malattie pancreatiche e anche tutte quelle situazioni, diciamo così borderline o comunque al limite della chirurgia che in qualche modo possono far sospettare la presenza di patologie severe e che devono essere prese in carico da parte del gruppo, come diceva prima il dottor Carlo Fabri. E non ultimo, l'importanza e anche quest'anno come l'anno scorso lo risottolineeremo anche nel programma che potete avere ricevuto dall'inizio, l'importanza della prevenzione, l'importanza degli stili di vita che soprattutto in questo ambito, cioè nell'ambito delle patologie pancreatiche, impatta in maniera non indifferente e che quindi riteniamo, dobbiamo sempre di più cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica perché non ci vogliono solo buoni sanitari, buoni professionisti a trattare le malattie, ma il primo modo di trattare le malattie è cercare di prevenirle e fare in modo che in qualche modo compaiono, per cui grossa attenzione anche a tutto ciò che è prevenzione, screening e soprattutto stili di vita. Poi lascio la parola all'ultimo dottor Frassinetti e poi iniziamo successivamente. Intanto mi associo a darvi il benvenuto, io come direttore del Dipartimento di Oncometologia e Clinico Sperimentale dell'IRST ho veramente raccolto con grande entusiasmo anche tutto il mio gruppo, l'invito che Carlo e Giorgio ci hanno rivolto per entrare anche noi nell'organizzazione di questa giornata, a frutto di testimonianza del lungo e proficuo lavoro e rapporto di collaborazione che abbiamo avuto tra le due aziende. Parlo del percorso interaziendale tra ASLE e IRST in cui, come ha detto il professore Colani, attraverso un approccio multidisciplinare si sono integrate tutte le professionalità dedicate a questa malattia che fanno ricerca e fanno assistenza. Io credo che questa manifestazione dedicata soprattutto ai familiari, all'associazionismo e alla cittadinanza debba essere anche uno stimolo per le autorità sanitarie e politiche, qui ne abbiamo in sala, affinché al più presto si possa arrivare anche dal punto di vista istituzionale alla creazione delle pancreatic unit, che sono quelle realtà nella quale i nostri professionisti possono esprimere la loro massima potenzialità. Ricerca, soprattutto un accenno sulla ricerca, ricerca e assistenza, non possono prescindere dalla possibilità di utilizzare già fin da adesso tutte le informazioni che derivano dalla conoscenza scientifica e non possono essere disgiunte. Dico solo una cosa, poi ce ne saranno altre che saranno affrontate nel corso della giornata. Penso alla necessità ad oggi che a tutti i pazienti con la diagnosi di tumore del pancreas debba essere offerta la possibilità di avere un pannello di analisi genetica germinale, quindi fatto sul sangue periferico, al fine di andare a vedere la familiarità eventuale. E non solo dopo, se ci sono delle indicazioni, andare dal genetista o andare dallo specialista per fare un programma di sorveglianza. Non il contrario, noi non possiamo non riservare questa possibilità solo a chi ha un profilo familiare particolarmente a rischio. Ricerca che deve essere sostenuta in tutte le maniere, perché la nostra speranza è che un giorno possiamo arrivare tramite una maggior conoscenza della malattia a livello molecolare a poter fare, come già succede in altri tipi di tumori, dare un trattamento il più mirato possibile. Quindi non genericamente verso la malattia pancreatica, ma verso la malattia pancreatica del signor Mario Rossi che sta in via Mazzini a Forlì. E io credo che solo con un'ampia sensibilizzazione di tutta la comunità romagnola, di cui ovviamente anche noi sanitari facciamo parte, noi potremo consolidare e migliorare quanto è stato fino adesso fatto in questi anni. Quindi un grazie anche da parte mia per tutti voi ad essere presenti qui stasera con noi. Prima di iniziare sicuramente darei la parola al nostro sindaco, abbiamo piacere di salutarlo noi, intanto abbiamo piacere che lui saluti noi. Anche perché mi sembra che siano state tirate in ballo anche le autorità politiche, civili, quindi è bello che questo importante convegno abbiate scelto di farlo nella Casa dei Cittadini, nel Salone Comunale e questo è veramente la vicinanza della città e il ringraziamento del sindaco, dell'amministrazione ai tre autorevoli organizzatori di questo momento e soprattutto a tutta la nostra classe sanitaria, tante persone. Oggi sono sei mesi che abbiamo avuto la tragedia dell'alluvione. È un anniversario triste, però è un anniversario in cui voglio ripetere il ringraziamento a tutti quelli e in particolar modo ai sanitari che si sono impegnati in questi mesi veramente difficili per la città. Cosa dire? Dire che è importante questo connubio, prima di tutto io mi sento a casa perché sono di Meldola e faccio il sindaco a Forlì, quindi vedere questo connubio fra l'IRST di Meldola e l'azienda e l'ospedale di Forlì veramente mi fa tanto piacere e soprattutto crea quelle condizioni di collaborazione, di sviluppo, di ricerca, di attenzione che tutti auspichiamo. Io credo veramente che la politica, la sanità, ma tutti abbiano interesse a portare avanti i temi della prevenzione, della diagnosi precoce, di tutti quei provvedimenti che anticipano la malattia che è anche un aspetto di grande valenza economica per la società. Quindi grazie per questo momento, grazie perché la nostra sanità rimane ed è una sanità d'eccellenza. Il nostro ospedale viene sempre menzionato come uno dei punti di eccellenza della sanità non solo romagnola ma nazionale, quindi da parte del sindaco non c'è altro che dire grazie. Continuiamo così, mettiamo tutta la disponibilità dell'amministrazione comunale a sostenere, ad aiutare qualsiasi iniziativa come abbiamo fatto nel portare la scuola di medicina a Forlì, che è un altro tassello importante che ha migliorato e ha fatto crescere tutta la nostra struttura. Quindi tanta soddisfazione, tanti ringraziamenti e buon lavoro per questo importante convegno. Grazie. Bene, chiamiamo Giorgio Martelli, il direttore sanitario del presidio dell'ospedale Morgagni. Buonasera a tutti, ma intanto essenzialmente due cose vorrei sottolineare. La prima, la soddisfazione di vedere un percorso e un'unione di forze che si è concretizzato in questi anni tra professionisti dell'IRCS e dell'azienda. Come hanno detto tutti loro, i professionisti che dovrebbero essere qui sono tanti altri. Ci sono i radiologi interventisti, i anatomopatologi, gli anestesisti. Perché assistere oggi a una patologia così complessa è necessita del supporto di tutti. la presenza dell'istituto, peraltro, è un grosso volano, come diceva il dottor Frassinetti, per attività di ricerca. È dimostrato che dove si fa formazione, quindi come diceva il sindaco, l'università, dove si fa ricerca, la qualità dell'assistenza migliora. Però questi tre signori e i loro collaboratori più di tanto non possono fare. Purtroppo il tumore del pancreas, guardavo prima di venire qua i dati dell'IRC, abbiamo quasi 15.000 prime diagnosi all'anno su 360.000 di tumori in Italia. E purtroppo la sopravvivenza di questi tumori, sia nell'uomo che nella donna, a 1 a 5 anni, non sono brillanti. Perché quello che possiamo fare con la chirurgia, con la chemioterapia, ricordava adesso il dottor Frassinetti, con i nuovi farmaci target, al momento non è soddisfacente. Il tumore del pancreas forse è ormai il vero big killer tra i tumori, perché sul tumore del polmone abbiamo fatto molti, ma molti passi in avanti, soprattutto con l'immunoterapia. Per cui voglio sottolineare quello che diceva il professor Ercolani all'inizio. È fondamentale la prevenzione primaria, primaria, con l'adozione di corretti stili di vita. L'abolizione del fumo porterebbe nell'uomo un abbattimento del 33% delle morti per questo tipo di neoplasia. Abbiamo anche l'alcol, abbiamo il caffè, abbiamo la sedentarietà, ma soprattutto fumo di sigaretta e alcol sono due fattori di rischio importantissimi. Quindi benvengano queste giornate di sensibilizzazione della cittadinanza, perché se lavoriamo sugli stili di vita, oltre a vivere meglio, preveniamo questo tipo di malattie e molte altre, perché poi alla fine il fumo di sigaretta, alcol e caffè sono quelli che ci danno danni per altre tante patologie. Quindi buon lavoro a tutti e grazie. Io porto i saluti del Presidente dell'Ordine dei Medici di Forlì e Cesena, che è il Dottor Gaudio, che non è potuto essere con noi per un impegno fuori città. Visto che sono un consigliere dell'Ordine, ha pregato di portare i suoi saluti e di scusarsi. E invito invece la Dottoressa Valicelli Loretta, che è il Vice Presidente dell'Ordine delle Professioni Sanitarie, a farci un saluto. Buonasera, grazie dell'invito. Ringrazio veramente di cuore gli organizzatori. Come dicevano, vi porto i saluti. Io sono il Vice Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì e Cesena e vi porto i saluti del Presidente, che non è potuto essere qui, perché è fuori sede, ma del Consiglio Direttivo e della Commissione d'Albo tutta. Ma noi vogliamo esserci quindi con grande piacere e con grande onore, devo dire la verità, a partecipare in una giornata dove si parla di lotta mondiale contro il tumore del pancreas. Quindi è stato detto già tanto, già in anteprima. Io voglio solo portare, voglio dire che percorsi complessi, come è stato detto, percorsi complessi con trattamenti quindi di presa in carico multidisciplinari e multiprofessionali, dove molti professionisti, infermieri compreso, lavorano nella ricerca e nell'assistenza, che sono, voglio dire, la guida, le evidenze scientifiche con cui ci guidano, per le nostre azioni quotidiane ci guidano. Devo dire che malgrado ci preoccupi un pochino, ci preoccupi un po' il problema delle risorse, perché sembra che ci sia un calo, voglio dire, rispetto agli investimenti nella sanità, di uno 0,5%, e anche un problema di risorse anche professionali, dove sento parlare molto di mancanza di medici, ma vi garantisco che mancano anche gli infermieri. Il problema di fondo è che... Mi sentite? La professione medica ha una sua autorevolezza e quindi quest'anno ha registrato un boom alla missione dei test di medicina. Gli infermieri hanno registrato un calo del 10%, vogliamo parlare di non attrattività, se non vi voglio tediare con queste cose, perché non è che malgrado questo hanno un'attrattività legata all'appiattimento della carriera, al problema anche di tipo stipendiale, che rispetto agli infermieri in Italia prendono il 40% in meno, voglio dire, rispetto a quelli europei, hanno... Ma malgrado questo noi ci siamo e quindi noi vogliamo contare, vogliamo essersi, partecipiamo. E partecipiamo anche nella consapevolezza e nell'azione... Si è già parlato molto dei fattori di rischio, e dopo si parlerà, vedono il programma così, dove gli infermieri fanno già un'azione importante, dove ci sono degli spazi, degli spazi importanti, perché io a questo chiamo anche... Cioè, ognuno di noi ha la responsabilità, perché non si può delegare tutta la propria salute alla sanità, ognuno di noi ha il dovere di esercitare un'autoterapia, perché la gestione, gli stili di vita corretti sono un'autoterapia che noi ci prescriviamo e tra l'altro, alla luce anche di tutte le conoscenze legate all'epigenetica, rappresentano un mondo veramente su cui quella prevenzione che è così difficile, quella prevenzione rispetto alla diagnosi precoce in questa malattia così difficile. E detto questo, e ringrazio ancora dell'invito, voglio chiudere con un saluto ancora, con un rinnovo ringraziamento e un saluto, e rubo una frase dal titolo del libro che sto leggendo in questo momento, edito nel 2018, l'autore era il professor Dino Madore, il titolo era Anima e coraggio. Grazie a tutti e buon lavoro. Purtroppo il nostro direttore generale dottor Maffioli e il nostro presidente IST dottor Miserocchi, che dovevano essere qui, non riescono a collegarsi, quindi mi hanno pregato di porgere a voi il loro saluto e la loro vicinanza. E' con piacere che adesso invitiamo le associazioni che agiscono in Romagna, in particolar modo la signora Katia Guernaccini, presidente della Pancrea, che invito per un saluto. Buongiorno a tutti, è con molto piacere che in questa giornata presento l'associazione che presiedo, l'associazione Pancrea, è un'associazione giovane nata quest'anno per volontà di alcuni cittadini forlivesi, particolarmente sensibili alla salute, in particolare del pancreas, ma anche di tutto l'apparato digerente. Per questo siamo convi... scusate... è di tutto l'apparato digerente. Abbiamo la fortuna di avere un comitato medico scientifico di rilievo, che naturalmente conoscete, e che hanno contribuito a rendere Forlì un centro di riferimento per le patologie pancreatiche. E l'associazione si pone l'obiettivo di agire per la prevenzione e per la cura delle patologie epatobiliopancreatiche. Attraverso interventi di prevenzione primaria, si è parlato anche chi mi ha preceduto, ha parlato di questo, intendiamo contribuire a rendere i cittadini sempre più informati e consapevoli e responsabili dei propri comportamenti, affinché adottino uno stile di vita tale da poter allontanare il più possibile quelli che sono i fattori di rischio che portano poi ad ammalarsi. Siamo consapevoli che le vere sfide per affrontare queste patologie siano due. Da una parte c'è la ricerca scientifica, la ricerca di nuovi farmaci per curare queste patologie e quindi ridurre la mortalità, aumentare la prevalenza. Ma nello stesso tempo è importante cercare di diminuire l'incidenza. L'incidenza di queste patologie si riesce ad avere attraverso uno stile di vita sano. Uno stile di vita sano che sappiamo tutti su che cosa si basa, una sala di alimentazione, un uso corretto dell'alcol, una corretta attività fisica, l'astensione dal fumo. Però noi assistiamo contemporaneamente, nonostante sappiamo questo, a un allontanamento di questi comportamenti. Dai dati dello Stato di salute e anche della popolazione dell'Emilia-Romagna si evince, è venuto fuori che sempre più troppe persone ancora hanno un ridotto consumo di frutta e verdura. Troppe persone, soprattutto tra i giovani, hanno un consumo allievato di alimenti ultraprocessati, alimenti che sono ricchi di zuccheri semplici, grassi saturi, grassi trans, sale, che lo sappiamo tutti che impatto hanno sul sistema gastrointestinale, su questi organi. Per quanto riguarda il consumo corretto del fumo, è venuto dai dati di quello dello studio, un forlivese su cinque ha un consumo non corretto, definito a rischio, dell'alcol. E questo in media con i dati dell'Italia. Sempre più giovani bevono in maniera, oltremodo in età, molto più giovane. E per quanto riguarda il fumo, sappiamo che sempre più giovani iniziano ad avere questa abitudine e anche nelle donne c'è un aumento di questa abitudine. Per promuovere una storia di vita sano, in occasione della settimana del Buon Vivere, abbiamo proposto un evento dedicato alla prima colazione, visto la sua importanza dal punto di vista fisiologico, nutrizionale e di prevenzione. Naturalmente nel caso in cui venga ben fatta. Di prevenzione perché sappiamo che può ridurre il rischio di sovrappeso e obesità, che a sua volta è un fattore di rischio per le patologie patobili pancreatiche, e di diabete di tipo 2, perché favorisce un miglior controllo della glicemia e anche delle patologie cardiovascolari. Questo evento, appunto chi ben comincia, l'abbiamo proposto anche nelle scuole. In questo caso l'abbiamo chiamato Colazioniamo. e l'abbiamo proposto a tutte le classi quarte dell'Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli e a due classi del Liceo Scientifico Scienze Umane. Abbiamo elaborato un questionario ad hoc che abbiamo fatto compilare ai ragazzi per avere un quadro, un riferimento a quelle che sono le abitudini dei ragazzi e i dati preliminari li abbiamo fatti espori ai ragazzi. Sono venuti fuori molti spunti interessanti da cui poi è partito anche tutti i temi che sono stati trattati durante questo evento. Per quanto riguarda invece la salute del pancreas, abbiamo organizzato questo evento ad aprile a Forlì che abbiamo chiamato insieme per il pancreas, dove si è parlato oltre che dei fattori di rischio di come avviene la presa in carico dei pazienti nell'ospedale di Forlì e Cesena e si è stati dati riferimenti ai percorsi di cura per le persone a cui è stata fatta diagnosi di malattie. Un intervento che è stato molto apprezzato e a cui ci abbiamo molto tenuto è stato quello di informare attraverso i medici e sensibilizzare la popolazione nei confronti dello screening per i soggetti a rischio per fare diagnosi precoce. Da questo intervento, anche grazie a molte persone presenti, sono andati poi dei contatti e alcune persone sono state considerate e arruolate nello studio che è adesso in corso presso l'ospedale. L'evento è stato ripetuto anche a Cesena il 25 ottobre e prossimamente l'associazione, proprio per migliorare la qualità di vita delle persone affette appunto da questa malattia, in base alle risorse che avrà, ha in essere la volontà di organizzare degli eventi e delle attività che aiutino ad affrontare la malattia sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista delle complicanze, dal punto di vista nutrizionale che si hanno proprio appunto, che derivano appunto dalla cura di questa malattia. Vorremmo fare anche degli eventi che possono stimolare le persone a praticare, quando è possibile, la giusta attività fisica, perché sappiamo essere un fattore molto protettivo, il fatto di mantenere la massa magra e quindi dare più la possibilità di continuare le cure e essere un fattore prognostico negativo, il fatto di essere inattivi e perdere massa magra. E organizzare degli eventi, delle raccolte fonde per sostenere naturalmente la ricerca scientifica per curare queste patologie. Più aiuto e sostegno avremo, più riusceremo a creare qualcosa di utile per tutti, sia per chi lo fa che per chi lo riceve. Grazie a tutti. Grazie dottoressa. Adesso ci colleghiamo con la Presidentessa dell'Associazione Oltre alla Ricerca, che non può essere qui presente, ma con la quale ci collegheremo, se non l'abbiamo già. Mi sentite? Dottoressa, buongiorno, a lei la parola. Buongiorno, mi sentite? Sì, perfettamente. Perfetto. Allora, salve a tutti, buon pomeriggio. Io sono Francesca Cavendini, sono Presidente dell'Associazione Oltre alla Ricerca Odi. Qui siamo in piazza Capurra, a Rimini, insieme ai... scusate, in piazza Tremarferi, a Rimini, insieme ai volontari attivi della nostra associazione e ai pazienti. Grazie a te, grazie a te, grazie a te che ci hai fatto. E quest'anno, il 16 novembre, si celebra appunto la giornata mondiale del moral pancreas con l'hashtag e lo pancreas in tutto il mondo. In Italia, insieme alla Fondazione Nadia Albazzetti Onnus di Prenscia, abbiamo declinato una campagna nazionale che è dal titolo Quanto pesano 80 gradi. Abbiamo realizzato delle parti a vedere sui rischi e sintomi, rischi e gli eventi, brochure per pazienti e cittadini. Questa campagna è nata in collaborazione con AISP, l'associazione scientifica e cittadina sul pancreas, e anche la partnership, cioè il patrocinio di Federpharma e Stinge, società di medicina generale. Quindi siamo molto orgogliosi di aver organizzato questa importante collaborazione quest'anno e soprattutto di essere riusciti a portare la parola dei pazienti e la voce dei pazienti anche a livello nazionale tramite la stampa, i social e tantissime canarie. Perché abbiamo scelto questo slogan? Perché 80 grammi, voi sapete bene, voi siete medici, ho il peso di l'utica del pancreas, che è un organo molto piccolo ma essenziale, perché la sua importanza è molto superiore rispetto alle sue dimensioni e quindi tramite questa campagna cerchiamo di rispondere consapevolezza sull'importanza di questo piccolo organo, sulle sue funzioni e anche sui fattori di rischio e il sindaco. Ecco, qui oggi facciamo una panoramica, siamo in piazza Tremattiri a Rimini, insieme anche ai medici, qui presenti abbiamo la dottoressa Cavalli, il medico di medicina generale, a cui darci una nuova parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie per questa opportunità, sono molto contenta di far parte di questo gruppo. Noi a Rimini stiamo cercando di collaborare con i colleghi per poter sensibilizzare la popolazione generale e per dare una consapevolezza a tutti i nostri pazienti di quelle che sono le opportunità diciamo diagnostiche in questa patologia così complessa. Quindi ringrazio ancora e spero che questo lavoro possa veramente aiutare tutti ad arrivare una diagnosi precoce il prima possibile per poter evitare di trovarci poi in condizioni più complicate nel futuro. Ringrazio tutti e saluto. Ecco, quindi grazie a voi che oggi proprio in questa giornata avete organizzato questo congresso che immagino che siamo qua, ma immagino sicuramente che siamo partecipati perché riuscire a parlare di questa patologia che molto spesso e ancora rimane un po' in ombra, riuscire a rispondere alla consapevolezza e riuscire a coinvolgere e informare che significa far accendere i settori, accendere la luce come stasera si accenderà qui a Rimini perché illuminiamo di viola e di diversi mondo. Soprattutto è un importante segno per far alzare le antenne a tutti gli attori di questa giornata e per riuscire a valorizzare la persona paziente che per noi è la cosa principale a cui noi appunto diamo la parola un attimo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie per averci intanto. ... sono stato un testo congresso, sono paziente, sono stato operato per farti fare il tumore al pancrea, oggi sono ancora ovviamente in marina bisonotica e sono in follow-up ma avendo ripreso le påzze e sto aiutando con le energie che anche ho all'associazione a dare un'attività per quello che riguarda le persone che solvattono questa grave malattia, il punto di essere una delle malattie più letali, l'esperanza è praticamente alla diagnosi. In conseguenza dare un'esperanza, perché la ricerca e la tecnologia hanno fatto passi da gigante, pertanto c'è più possibilità di sopravvivere anche durante il periodo di fura, piuttosto che, per la cagione di una volta che fa, la mia capacità di vivere alla vita erano molto minori. Io vi ringrazio di nuovo per averci dato questa anche di testimonianza e passo la parola a un altro paziente. Buonasera a tutti. Infatti ci so. In salute anche da Franco? Sì, io anch'io sono un partente, ho operato un po' del Pancas, ognuno a qualche mese fa, non ne sapevo niente, tra le mie conoscenze di medicina sono scarsissime, relativamente al Pancas ancora di meno, mi hanno operato, devo dire che mi sono trovato molto bene, mi hanno dato tutto benissimo, non posso che ringraziare l'ospedale per il modo in cui mi hanno trattato, e quindi ho un debito di riconoscenza, la Cinzia mi ha tirato subito dentro nella sua sessione, e quindi ho un debito di riconoscenza e voglio anch'io testimoniare a qualche altro paziente che tutto sommato, una volta passata l'operazione, io vivo bene, mi trovo come era prima di operazione, per cui tanti auguri e buona speranza. Ecco, quindi da Rimini è tutto, grazie Gabriella, da Rimini è tutto, vi salutiamo, vi auguriamo buon lavoro, e quindi alla domanda quanto pesano 80 grammi, 80 grammi pesano moltissimo, grazie. Grazie Francesca, e grazie anche per tutto quello che fate per l'Associazione Italiana Studio Pancreas, grazie di cuore, grazie Rimini. Direi che possiamo cominciare la parte scientifica di questo incontro, e proprio per questo intanto voglio ringraziare la segreteria scientifica, e voglio ringraziare i giovani medici che lavorano nel nostro ospedale, che tutti i giorni interagiscono su tutti i casi, e sono quelli anche grazie ai quali abbiamo la possibilità di fare eventi come questo, Cecilia Binda, Chiara Coluccio, Alessandro Cucchetti, Margherita Muratore, Carlo Alberto Paciglio, Ilario Raposelli e Monica Sbrancia. La contaminazione delle città è fondamentale, io ho avuto la fortuna di laurearmi a Bologna, dove ho conosciuto il professor Gullo, la sindrome di Gullo è ancora scritta nei libri, e questo rappresenta poi il network per il quale certi esperti, certi ricercatori sentono la necessità di dover fare rete con altri medici che sono dislocati in altre città d'Italia, in altre città d'Europa e in altre città del mondo. La città di Bruxelles rappresenta sicuramente un core centrale per la visione del pancreas, non solo da un punto di vista dello studio dell'organo, ma di tutto quello che è l'applicazione della tecnologia. Abbiamo avuto la possibilità di avere un'amica, una grande esperta, con noi per un paio di giorni, che è Mariana Arvanitachi, che è stata con noi nelle sale endoscopiche, che ha visto in nostro ospedale, e è un grande piacere di introdurre her, perché è una cosa che è una persona che è molto esperta, è la directora della pancreatologia e nutritionistica in Erasmus, in Bruxelles, e she worked very hard to help the interaction between endoscopic pancreatic point of view and clinical point of view, and also about the vision of the society in Europe. Thank you, Mariana. Thank you very much for this very kind introduction and for the invitation to speak for such an important event in this prestigious location and also to discover this very beautiful region of yours. And I have to admit I was hyper impressed with all the activities for this important day and the associations as well. And I'm very happy to be here for this day. So I changed a bit the title after talking a bit with Carlo yesterday, to make it a bit more pancreas cancer oriented for today from archeology to now. So we will not go back to archeology, but we will go back some decades to see how things have changed. And the Greeks already knew that the pancreas is important because pancreas come from pan, which means everything, and kreas, which means meat. So they didn't call the liver pancreas, they called the pancreas pancreas. So I'm also very happy to work in this area with this important focus. So let's start with a story, a story that unfortunately we live regularly with our patients. So a 73-year-old patient who has pain, he has been losing weight, he has lost a bit of appetite, he has some comorbidities, he has some arterial hypertension, he hasn't had any previous surgery, he doesn't have diabetes, so he goes to his GP, which does a blood test and see that he has a bit of, his liver function test are a bit of abnormal, the bilirubin levels are elevated, and he sees that he has definitely lost weight, he has lost 10 kilos since he was last seen with the GP. So he does an optimal CT scan to see what's going on, and he unfortunately, it identifies that there is a tumor in the pancreas, in the head of the pancreas here, as you see, and we see that there's the veins next to it, this is a superior mesenteric vein, seems to be in contact with this tumor, and when they see in the CT scan also, there is also maybe a lymph node there. So this patient has probably a pancreatic tumor. He also had the magnetic resonance, so this is also an example of cross-sectional imaging, but it gives you some extra information, so it gives you also a very nice depiction of the ducts, of the bile duct, which is dilated here, and the pancreatic duct, which is also dilated, and there seems to be some kind of element there that creates this dilation, which creates stricture in the distal part of the ducts, and we can imagine that the tumor is there. Also, magnetic resonance, what it can also give us, it gives us an extra information about the behavior of the tissue, and we have what we call the diffusion-weighted imaging, and diffusion-weighted imaging, it's a bit like a PET scan, and it will show that some areas, here it's the pancreas, it's the lesion that's suspected, and there it's the lymph node, this has a different signal, it's more white, and this is the diffusion-weighted imaging, which is abnormal, and it just represents the density of the cells. When there is a normal tissue density, like a normal pancreatic tissue, let's say, the water will circulate, let's say, normally between the cells, but if there's a tumor, there's a high tissue density, and therefore, the water will circulate differently, and this will be translated in this different diffusion-weighted imaging. So we have a lot of new diagnostic techniques that give us also information. We will see also information maybe regarding treatments, even more than diagnosis. But you asked me to talk about history, so let's go back a bit in time. Let's go back some decades ago in 1988, and I found this publication in Annals of Surgery about what's new in pancreatic cancer in 1988, and we will see that things have, of course, evolved a lot, and probably this is why we're becoming better in treating these diseases, because in all disciplines, we're becoming better. So when we see here the diagnosis, what did we have? We have ultrasonography, which was the NCT scan. This was still the only diagnostic tests that were used. We see that endoscopic ultrasonography, that now it's the main horsepower of management of pancreatic cancer, didn't really exist. There was only one reference with not very good accuracies. Sensitivity was 60%. MRI was unknown. Nothing. We didn't know anything about it. And, of course, we had percutaneous cholangiography, ERCP enangiography, for diagnostic, which, of course, nowadays we do not use these techniques for diagnostic purposes anymore. They're just for therapeutic purposes. But this was a bit the diagnostic landscape for pancreatic cancer when I was a teenager. This is also very interesting. This was the algorithm of the time in the same publication. So we see that, again, we used whatever we had in our hands, US or CT scan, to see if there were metastasis, so secondary lesions in the liver, to see if we could operate or not. So if there was metastasis, then we did a bypass, meaning that we bypassed the stricture, the stenosis of the bile ducts to relieve the jaundice, the problem related to the stricture. If there were no liver mets, we went to laparoscopy to see what was going out inside because we didn't have any other way of doing the staging at that site to understand if there's contact with the vessels, if there are lymph nodes, all these things. Again, if there were met, then we just do the bypass of the biliary tree and we stop there. And if there were no metastasis in laparoscopy, and then we saw if there was non-jaundiced or jaundiced, and if the patient was jaundiced, we went to angiography where we injected the arteries to see if there was a vascular encasement involvement or not. And only then we went to resection. So we knew the importance of vessels and the contact with the vessels, but we didn't have any ways of clearly evaluating them at that time than going through this quite aggressive algorithm. But that's how things were done at that time. So this is the preliminary report in 1986 on one of the first publications that I found on the endoscopic ultrasound. Of course, at that time, we couldn't do biopsies with it. We couldn't take tissue. It was just an endoscope with an ultrasound around it. We can see a bit of tissue in gray and white around the area in the digestive tract. And we saw that it was a bit difficult for it in patients. We have technical difficulties. But it was the beginning. It was the beginning of the development of endoscopic ultrasound, which was a momento epocale, as we can say in Italian, about this technique regarding how we manage pancreatic cancer nowadays. So we talked about staging and the possibility of taking tissue. So now, come back 40 years later, in 2023, well, the endoscopic ultrasound has a crucial role to play in the management because it will help us diagnose better small pancreatic tumors. We talked about screening. I think you have a screening problem for high-risk individuals for pancreatic cancer. And the U.S. can be really a very good screening tool for these patients to find these small tumors. It gives high resolution and can also help in providing tissue. We can do biopsies with special needles through the scope and have very good cytology to see the cells and to have a confirmed diagnosis. Also, this importance of staging to understand if the tumor is large, if it's touching the vessels, if there are lymph nodes, if we can operate or not. And this can give you, U.S. can give us very important information about that. Also, finally, it can help us to see if there are metastasis in the liver. With the U.S. scopes, we can see part of the liver, but it might diagnose liver metastasis that are not seen on the CT, for example. And we also talked a bit about this differentiation of resicability of pancreatic cancer. And nowadays, we talk about three categories. So where the tumor is resiccable, it means that there's no contact with the arteries and not an important contact with the vein. In this case, these patients, if they can be operated, if they're strong enough, if they're fit enough, we can take them to surgery. We have this category, which is borderline resiccable. In this case, there is some contact with an artery or a more important contact with the vein. In any case, these patients might benefit of having a treatment for chemotherapy, for example, that will a bit shrink the tumor before we go for surgery. And the patients that have a locally advanced or resiccable, these are patients which have a more important involvement of the vascular structures, or if they have metastatic disease, in this case, the most appropriate treatment is by chemotherapy or radiotherapy, and surgery, at least in the first step, does not have any place for this. It's very important to have in these two cases here because we will have to give chemotherapy, we have to have tissue, we have to have a clear diagnosis, and this is where the biopsy through the echo endoscope can help us. And this is also a bit the setting in which we work and we talk about when we do our multidisciplinary discussions. I think you already referred to that in the introduction. It's very important that all the important healthcare providers are involved in this discussion, including the surgeons, the oncologists, the radiologists, the pathologists that will see the tissue, the radiotherapists, the oncogeriatricians, if necessary, the oncologists. So this is a very important part, and we also have our MDT every Tuesday, and it's a very important part of the week for us. So tissue acquisition is important also to refer a patient to surgery. If there is a doubt, this is the two types of surgery that are offered for the patients depending on the site of the tumor. So we have the Whipple, which is the tumor is in the head of the pancreas, which is quite an extensive surgery, but it's the only one that can provide good margins and have tumor-free survival rates, and we can see that we cut part of the stomach, we cut the pancreas, we do these sutures, so it's quite heavy surgery still. And this is for the patients that have a tumor in the tail of the pancreas, we cut the left part of the pancreas, which is a bit less morbid than the Whipple procedure. In any case, this was in the publication that I showed where mortality rates were more than 20%, still more than 10% during the 70s. We're not there anymore, of course, because of the technological advancements, because of the surgical techniques, because of the anesthesiologists that help us during the procedure, because of the ICU, people that take care of our patients, and this, of course, has been crucially improved. It's also important to have experience, and we know that there is a difference in a center that will do one Whipple per year and a center that will do 20 Whipples per year or more. And this was also shown in the German studies where they showed almost a doubling of the mortality in low-volume centers, and a higher level of post-operative interventions in low-level centers. So, centralization is important. And in Belgium now, we have, we can only offer reimbursement in centers that have high volume, so there are six high-volume centers in Belgium, and we have to survey our morbidity and our mortality rates related to these procedures. to avoid the necessary surgery, and we, there are some diseases that are very good mimickers of pancreatic cancer, but they will respond to other kinds of treatment like steroids, and they not require surgery, such as autoimmune pancreatitis, and now with the biopsy, we can also exclude this possibility and avoid unnecessary surgery for a patient that doesn't have cancer. And as I said earlier, tissue is the issue, so now with endoscopic ultrasound, we have the possibility of sampling very easily. We can see the tumor, you can see in the little video, with echoendoscope, you can put a little needle inside, you can see the needle in the image, and we can have a very good tissue specimens that our pathologists will look in detail and will be able to identify if the patient has cancer and what type of cancer he has. Another element that helped us a lot is the technology, the technological developments and the engineering behind these devices that we have. And now we know we have developed needles that are more and more sophisticated and bring more and more tissue that help our pathologies reach more accurate diagnosis with less procedures. We have other ways of also seeing around the pancreas what's going on, and if there is other metastasis, we talk about the liver, but sometimes there can be small metastasis in the peritoneum. The PET scan is a good procedure to understand what's going on, and it's important also to be able to identify this metastasis because we know that these patients will have better survival rates and should not undergo surgically, at least as a first step, and maybe in the future we might be able, like in colon cancer, maybe to treat metastatic disease, but for the time being we're not there still. finally, we are advancing as well in providing personalized treatment more and more. This is from a European study, but it's worked on in Marseille, so they can take tissue through the and they will take this tissue and they will make organoids from this tissue, so new cellular material from the pancreas, from the cancer, and they will manage to see how this tissue will respond to chemotherapy, in this case to gemcitabine, which is a very common chemotherapy agent that we give, and to determine if the patient will be sensitive to this chemotherapy or not, and really to give a personalized treatment to avoid a treatment that might not be useful for the patient that might lead to a disease response but give adverse events without any benefits. So more and more we're talking about personalized medicine in pancreatic cancer. And again, I will come back to MRI because it's a paper from from Selsomatus which is also one of our pioneers in Erasmo Hospital, our radiologist that developed a lot in MRI. And here they wanted to see if this diffusion weighted imaging which is the density of the tissue, if it can be a tool to understand how the patient will respond to the chemo, to the neoadjuvant therapy, the chemo before going to surgery. And this also can be an interesting tool to see if the patient responds or not. So still a lot of research going on, a lot of prospective results to look ahead. Biliary drainage is also a very long story. This is also one of the first trials that I found about a randomized trial on palliation. So putting a plastic stent, a plastic little tube in the bile decks to drain the bile that's accumulated above the structure caused by the tumor and resolve the jaundice. before it was the bypass. It was a surgical technique. And with this endoscopic technique, this was also revolutionary because we managed to offer palliation patients that were quite sick without having them taken to surgery. And I lived this period of development at least further years later because we have what we call the Bible. I come from a university which is not related to Catholicism. In Belgium we have the free universities and the Catholic universities. I come from a free university but it may be a blasphemous way we call this the Bible because it's all the procedures that we've done since the 70s are written in this database. And it started with Michel Cramer, one of my mentors, and continuing with Jacques De Vierre, another mentor of mine. And it's still going on now when we're like at 45,000 patients. And every time we have a near CP, so a procedure we drain the bile ducts, we put the name of the patient, we put the number of the patient, we do a little illustration and we explain what it did. It's one of the oldest databases that we have. It's still on paper but it still works because a lot of our research came from this Bible. And again it's important to keep the tradition, even if it's old-fashioned because it still can be a source of amazing observations and possibilities. And in Rome they have the same Bible because Guido Costamani also trained with Michel Cramer and I'm very proud to fill in the Bible in Rome during one of the events there. So it seems that as you were saying before that different research groups get together and work together and this is the beauty of what we do every day. So we know that we drain the patients, the bile, the drainage in a palliative setting where there's no surgery, definitely yes. In a patient that can be operated, even if he has jaundice, he doesn't necessarily have to be drained because if we can operate him, the surgeon will also drain the jaundice. So we also only have to offer these procedures in patients that require them if there's an infection, if he has to have chemotherapy, if he doesn't have surgery within two weeks. So again we are getting better of understanding these new techniques, these new developments, who will benefit for them, to whom we should offer them, because again whatever we do there's still the possibility of adverse events. We also have different types of stents now and we know that we can do other types of biliary drainage with the endoscope from other areas and this is again development still going on and and everything we can do to help the patient. So I would like to finish with a very important subject, nutrition. We already talked about preventive nutrition, about physical activity, about smoking as well, about eating fruits and vegetables and a bit less red meat, the Mediterranean diet, all these things are prevention, very important, but also nutrition is very important when we have to take care of patients with pancreatic cancer. This is again a little paragraph from the publication in 88 where they said that it's significant weight loss is common in patients. There's no good evidence that any reduction of morbidity and mortality justify the delay, expense and risk of giving nutritional support. So at that time it was a problem but we're not going to deal with it, it's too expensive to deal with it. That's how it was. But now we know that malnutrition is a problem, it's frequent in patients and we have to deal with it. And this is the GLEAM criteria, this is from the ESPN, the Society on Parenteral and Parenteral Nutrition, they did a consensus to define malnutrition under nutrition. And we can see that we have the malnutrition which is not related to any disease, this is related to socio-economical or psychological factors, or hunger related malnutrition which is also a big problem still in the world, maybe not in our counties but in the world, disease related malnutrition without inflammation and then what we are most frequently dealing with disease related malnutrition with inflammation. We have cancer is of course there with cancer catsexia which is really the irreversible form of severe malnutrition related to cancer. and now we have our tools to detect this either with a simple questionnaire if there is weight loss if the patient has a low BMI if he is eating less if he has acute illness that puts him one yes in these four questions puts him at a risk for malnutrition and then we can go more in diagnosis of malnutrition where we require to have one phenotypic criteria so weight loss reduced muscle mass or low body mass index and one etiological criteria either less food malabsorption or some inflammation. So two criteria are required and then we can really have an objective diagnosis of malnutrition and also quantify it according to the severity. So we know for pancreatic cancer that patients are very frequently malnourished here there is 88% so almost everybody and it's also a predictive factor of high morbidity and mortality after surgery. So we really have an interest in refeeding these patients and getting them in a good general situation before taking them to surgery. so this is the international study group on pancreatic surgery this is surgeons that put this in the recommendation the importance of screening and providing nutritional support and also new studies coming out showing that body composition so meaning the muscle mass and the fat mass how it's important also to see the outcome of the patients that are having chemo before surgery so neurodivergent chemo and we saw that during this chemo the patients will have a better situation they will have more muscle mass and less adipose tissue which is good but even more important the fact that you will have an increase in skeletal muscle is a predictive factor for taking the patient to resection meaning that he will be in a better situation and we might be able to give him a curative surgical treatment so these are very objective findings showing the importance of nutrition and of course we try to make everything around the surgery related to a better outcome so to make things little things that might help in having a better outcome as explained to the patient before the admission trying to not give him too much opioids so he can get up and go to the toilet and be a better and go home eat earlier go home quicker have good management of nausea not give too much liquids because that's not good either they have edema they're not well they cannot walk they stay in the hospital a lot to give more oral nutrition than parenteral nutrition so all these are things that help us now even in pancreatic surgery to have a better outcome and it's working so this is really whatever is done here on the pancreas I think that we can be proud because we have done something it might seem not important but it is important this is the five year survivors rates and you can see that these five year survivors are going up and they're really going up and I'm not showing this because Belgium is the pink line on top you can see that all the countries are getting better Italy as well is right there on the top so we have really we have doubled the five year survival rates of patients with pancreatic cancer this is really because everybody is working together to get better outcomes for our patients so just to wrap up we think that things have changed and we're getting better and we're going to get even better and this is because everybody is trying to work that way together still more and more biopsies were required and working on that trying to see what is the best treatment for the patient who patient will require neurodivergent therapy who will benefit of that this is all very important issues and we're still working on that there's new ways to offer biliary drainage either before or for palliation not already not everybody needs that this is also important but we can offer that if the patient is it needs it and nutrition is still something that's very important and also has to be part of the equation when we treat treat these patients thank you very much for your attention okay since it's a lecture we're not going to to ask you some some question so let's go on dottor Magrini si viene qui con me a moderare e andiamo avanti con la con la sessione successiva e abbiamo parlato fino adesso di stili di vita nutrizione eccetera e quindi Nicola a te la parola abbiamo questa sessione pomeridiana molto interessante che coordiniamo assieme a professore colani che è una sessione diciamo varia che si apre con due relazioni non esclusivamente mediche o cliniche soprattutto la prima ma con implicazioni di salute pubblica e la seconda con implicazioni come dire filosofiche ed ampie in microbiota quindi introducevo con giuntamente due ambiti per una riflessione più più ampia del solito in un'ottica come è già stata richiamata anche di salute unica salute 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 umana salute animale per gli animali da allevamento salute in agricoltura e salute come oggi si dice anzi autorevolmente salute planetaria alcune riviste molto importanti hanno aperto riviste dedicate ha iniziato l'anset con planetarie health e diciamo continuiamo anche noi oggi quindi ringrazio per questo pomeriggio vario ringrazio anche carlo fabbri che insieme al professor colani hanno pensato a questo e devo dare atto anche a carlo fabbri di aver organizzato un sei mesi fa circa un interessantissimo e piacevolissimo menecibo che spero possa continuare quindi do la parola a lisa paganelli stefano foschi per una lettura dal titolo agricoltura biosimbiotica e lotta biologica realtà virtuose del territorio prego dottoressa paganelli you have the floor come si dice buonasera a tutti e vorrei ringraziare il dottor fabbri per questa occasione per parlare a questo importante convegno e alla sua intuizione sull'interdisciplinarità che coinvolge anche i sistemi di produzione agronomica quindi sistemi di produzione alimentare quindi oggi parlerò più della della parte agronomica piuttosto di quella medica di quello che tratta il biodistretto allora nella provincia di forlia cesena da circa tre anni è nato il primo biodistretto quindi il primo biodistretto riconosciuto dalla regione emilia romagna ed è un territorio che comprende cinque comuni della valle del bidente che sono meldola civitella galeata santa sofia e premi il cuore che è nell'altra vallata ma che comunque è confinante e questo biodistretto unisce le aziende agricole che coltivano con sistema biologico e sistema biosimbiotico quindi il biodistretto non si occupa solamente di agricoltura ma si occupa anche di tante altre attività che valorizzano il territorio quindi partendo dal settore primario che è l'agricoltura si ha proprio una vera e propria economia territoriale che lavora più o meno come i microrganismi nel suolo che dopo vi farò vedere quindi abbiamo le prime filiere certificate la prima è stata quella di grano tenero e la seconda è quella del vino biosimbiotico quindi un vino sangiovese locale e adesso stiamo portando avanti tutte le filiere dedicate all'ortofrutta perché ad esse si sposa poi un progetto di salute alimentare di sana alimentazione nelle scuole del biodistretto quindi i sindaci sono stati virtuosi hanno aderito a questo progetto e tutto questo si basa appunto sull'agricoltura biosimbiotica ma soprattutto su tutto quello che c'è nel sottosuolo nel suolo scusate quindi come vedete l'apparato radicale della pianta ha uno sviluppo uguale a quello della pianta che si vede in superficie ma sotto ci sono migliaia di funghi lieviti e batteri che lavorano in simbiosi con la radice della pianta e fanno sì che questa possa crescere in maniera sana e possa essere resistente all'attacco degli agenti patogeni e quindi ne modifica la struttura quindi questi microorganismi come potete vedere in un centimetro cubo di suolo lavorano in simbiosi con la radice della pianta e fanno sì che questa possa anche modificare la propria struttura quindi le piante coltivate con questo sistema di agricoltura sono ricche di antiossidanti, vitamine, polifenoli e tutto questo grazie all'azione dei microorganismi come potete vedere in un grammo di suolo riusciamo ad avere fino a 30 metri di sviluppo dell'apparato radicale quindi noi abbiamo diciamo accomunato il suolo al nostro bioma intestinale quindi se noi abbiamo una ricchezza di microorganismi nel suolo questa viene trasferita tramite la pianta al nostro bioma intestinale e da qui è nato tutto un percorso di ricerca grazie anche all'istituto oncologico e al professore Amadori che è stato diciamo il primo che ha creduto in questo progetto ed abbiamo fatto la prima ricerca a livello europeo sugli effetti del cibo da agricoltura biosimbiotica sul bioma intestinale e oggi mi voglio soffermare sulla sull'importanza della biodiversità microbica del suolo perché grazie a questa noi riusciamo ad evitare l'insicurezza alimentare ed energetica perché se abbiamo un suolo ricco e vitale evitiamo la desertificazione possiamo prevenire fenomeni devastanti del nostro territorio come abbiamo vissuto purtroppo a maggio di quest'anno riduciamo la perdita di risorse idriche e tutto ciò serve a preservare il nostro ambiente quindi noi sappiamo che senza biodiversità microbica del suolo andiamo incontro alla desertificazione questo perché le piante sono coloro che permettono di mantenere le nostre risorse idriche nel suolo quindi il cambiamento climatico è data appunto all'abbattimento di foreste e numerosi cioè aree diciamo verdi quindi quello che vi stavo spiegando prima appunto è il legame della biodiversità microbica del suolo col bioma intestinale perché dal momento della nascita il nostro bioma viene creato quindi noi a seconda di come nasciamo se nasciamo con un parto naturale un taglio cesareo abbiamo già l'impostazione del nostro bioma quindi se entriamo in contatto col canale del parto della mamma avremo un determinato bioma intestinale se invece entreremo a contatto con le mani del chirurgo durante il taglio cesareo ne avremo un altro il bioma intestinale poi prende forma dai fino ai quattro anni di età e quindi è per questo che è fondamentale l'educazione alimentare fin dai primi anni di vita dei bambini ed è per questo che l'educazione alimentare si svolge soprattutto negli ambienti scolastici e i cibi che noi produciamo con questo metodo di agricoltura hanno notevoli caratteristiche soprattutto un miglioramento dei valori nutrizionali e tutto questo è stato accompagnato negli anni da numerose ricerche fatte con il cnr di pisa ma anche con l'università di bologna e di vino e qui abbiamo un esempio di quello di cui vi parlavo prima del grano tenero e abbiamo messo a confronto le varietà di grani antichi rispetto ai grani moderni quindi nei grani antichi vediamo un importante sviluppo dei polifenoli che sono quelle sostanze che la pianta produce per difendersi dall'aggressione degli agenti patogeni questi polifenoli noi li ingeriamo e ovviamente sono per noi una grande ricchezza quindi vediamo che i grani antichi che quindi non hanno subito diciamo la variazione l'intervento dell'uomo mantengono qualità nutrizionali molto superiori in questo caso sempre uno studio fatto sui grani antichi era l'abbassamento della popolazione batterica patogena grazie alla produzione di lattobacilli anche questa dovuta appunto alla presenza di antiossidanti polifenoli nei grani quindi i grani antichi avevano un'attività antibatterica a favore della produzione di lattobacilli nel nostro intestino e vi vorrei lasciare con una riflessione su sull'importanza di ciò che noi normalmente non consideriamo quindi noi come si vede in questa slide siamo gli abitanti diciamo più recenti su questa terra quindi i primi microorganismi le prime forme di vita si sono presentate 4 miliardi di anni fa e 3,2 milioni di anni fa è stata scoperta la prima donna Lucy e la presenza dell'uomo sapiens più recentemente negli ultimi 200 mila anni questo per farvi capire che non è la natura che ha bisogno dell'uomo ma è l'uomo che ha bisogno della natura e quindi dobbiamo fare il possibile per preservare la biodiversità microbica del suolo e cercare di rispettare una naturale evoluzione della specie quindi cercare di mantenere le buone pratiche agronomiche cercare di valorizzare cibi prodotti con sistema di agricoltura sostenibile perché animali allevati al pascolo in determinate condizioni hanno dei valori nutrizionali fondamentali per la nostra vita a differenza di sostanze di prodotti che vengono fatti in provetta che sono sterili quindi se noi mangiamo del cibo sterile di conseguenza questo rovina il bioma intestinale quindi un particolare ringraziamento va agli agricoltori di questo biodistretto che con il loro lavoro da anni cercano di mantenere il territorio cercano di essere un esempio virtuoso e quindi con il loro impegno preservano un territorio ma grazie questo preservano anche la nostra salute quindi volevo ringraziare soprattutto loro e grazie a voi per l'attenzione grazie dottoressa Paganelli di questa interessante apertura verso volevo ricordare una cosa dato che è stata molto puntuale nei tempi che avendo parlato di suolo suolo è stato un termine molto importante anche per l'evoluzione delle nostre conoscenze e volevo ricordare come nota che non è stato Fleming il primo a scoprire un antibiotico ma è stato René Dubois alla Rockefeller Foundation prima della guerra ma i due antibiotici che aveva scoperto molto potenti erano troppo tossici e questo René Dubois che era certamente un genialoide francese trasferitosi a New York disse che intravedeva nella resistenza un problema tale che era meglio non andare avanti e fece invece il primo rapporto per le Nazioni Unite sul sul legame cibo ambiente e inquinamento quindi è un terreno fertile quello del del suolo che ha un collegamento anche con la salute umana grazie invito ora il professor Giovanni Barbra dell'Università di Bologna a Foschi ah eravati in due per cui è stata breve pensavo avesse parlato a nome di entrambi quindi ritiro la brevità che non c'era c'era forse la puntualità non lo so do la parola a Dottor Toschi mi scusi pensavo avesse fatto il buon gesto di lasciare una sola donna visto che ha parlato di Lussi penso che Lussi fosse anche in compagnia ci fosse un partner no lo spero per qui sì no non vedo le slide ok beh intanto io vi ringrazio di avermi invitato io solitamente sono abituato a parlare davanti alle platee però in questo contesto devo dire che mi emoziono perché è un contesto importante nel quale io spero di poter dare un contributo per vedere quella che è la correlazione fra il mio mondo e il vostro mondo io di cosa mi occupo insieme ai miei colleghi allevo insetti a livello industriale che vengono utilizzati in agricoltura come sistemi di lotta al posto dei pesticidi e da di qui io voglio partire parto proprio da pesticida voi dovete sapere che nel nostro mondo questa parola è stata abolita adesso si devono chiamare agrofarmaci perché pesticida evoca brutti pensieri ma questa è la realtà pesticide sono sostanze chimiche che l'uomo ha inventato per uccidere noi le conosciamo per un uso agricolo non dimentichiamo quella che è la loro origine io qui ho estrapolato un nome frisabber il padre della il padre delle armi chimiche dai suoi studi c'è stata un'evoluzione poi ricordo che questo personaggio nel 1920 ha avuto il premio nobel e nello stesso tempo era stato condannato per crimini di guerra per i suoi studi studi dai quali dopo l'uso militare si è arrivati a uno sviluppo e un utilizzo massiccio di questi prodotti in agricoltura negli anni 40 50 chi non ricorda chi non ricorda i grandi effetti in questo caso anche positivi che sono stati presentati del del DDT ma chi chi conosce chi sa i grandi effetti negativi che questa molecola ha portato all'ambiente e alla salute dell'uomo una molecola che oggi noi sappiamo rimane nell'ambiente senza essere degradata per oltre 40 anni ancora si trovano tracce nei terreni bonificati di DDT due personaggi voglio a due personaggi voglio collegarmi velocemente Rachel Carson 1962 pubblicò negli Stati Uniti un libro che si chiama primavera silenziosa primavera silenziosa perché lei correrò l'utilizzo del DDT al silenzio alla morte erano spariti gli uccelli dimostrò come i pesticidi entravano nella catena alimentare anche nella nostra catena alimentare e si dimostrò da questo grido inizialmente fortemente contrastato come il DDT abbia effetti cancerogeni e nel 1972 fu abolito negli Stati Uniti e successivamente fu abolito anche nel resto d'Europa nel 78 in Italia un altro grande personaggio italiano in questo caso che io voglio citare perché è stato il mio professore io sono uno degli ultimi che si è laureato con lui il professor Giorgio Tè Giorgio Celli entomologo etologo che viene considerato il padre della lotta biologica moderna nonché l'ideatore scientifico della biofabbrica che è l'azienda di cui io sono qui a parlarvi da Celli io avevo messo anche una slide una depositiva che parlava di equilibri ma in questo caso la dottoressa Paganelli ha già in qualche maniera detto tutto quello che c'era che c'era da dire io in questo depositivo ho messo un terreno arato e un vigneto arato e un vigneto lasciato in erbito il vigneto arato è quanto di più quanto di meno naturale noi possiamo presentare l'agricoltura è un sistema fortemente semplificato se noi lo andiamo a semplificare ulteriormente abbiamo gioco forza bisogno di utilizzare pesticidi o sostanze negative perché andiamo a rompere degli equilibri naturali uno dei compiti del nostro lavoro è quello di lavorare per ricreare artificialmente delle condizioni di equilibrio e ridurre quindi la necessità di mezzi diversi che cos'è la lotta biologica di fatto la lotta biologica l'utilizzo di dobbiamo sapere che ogni organismo ha degli antagonisti naturali con la lotta biologica noi sfruttiamo questo antagonismo a nostro favore lotta biologica che poi è evoluta in lotte integrata in realtà in agricoltura soprattutto in lotte integrata che non prevede la totale evoluzione dei pesticidi ma prevede che prioritariamente qualsiasi mezzo di lotta alternativo deve avere la precedenza rispetto alla chimica quindi la chimica non è più la base ma semmai è il complemento strettamente necessario se e quando è veramente necessario. Velocissimamente mezzi tecnici a basso impatto ambientale non sono solo gli insetti utili ma sono anche le trappole. L'utilizzo della confusione sessuale voi dovete sapere che in agricoltura si usa moltissimo un sistema che immette nell'ambiente falsi segnali femminili il maschio non capisce più niente si confonde e non trova più la femmina ma in questa maniera non si riproduce questo è un sistema di lotta biologica. Vengono utilizzati virus funghi batteri e microorganismi che in realtà sono specificatamente dannosi per quegli insetti che noi vogliamo combattere ma sono assolutamente innocui per uomo ed animali oppure vengono utilizzati come detto prima anche gli insetti utili di cui io sono qui a parlare. Chi li utilizza? L'agricoltura biologica? Sbagliato l'agricoltura biologica è un piccolo tassello di utilizzatori in realtà e questo è il messaggio che voglio darvi. L'agricoltura ha fatto dei passi da gigante e gli agricoltori manco se ne sono resi conto veramente di quello che è successo in questi 20-30 anni. Oggi i mezzi tecnici biologici li usa l'agricoltura convenzionale, li usa l'agricoltura in generale. Per filosofia? No. L'Europa toglie ogni anno dalla possibilità di utilizzo principi attivi quindi l'agricoltore oggi non ha più la chimica che aveva a disposizione qualche anno fa. Ne ha di meno, se la usa male dopo un po' non funziona più perché gli insetti generano velocemente ceppi resistenti, popolazioni resistenti, un po' il concetto che si avvicina a quello che forse voi usate più di assuefazione. E poi è il mercato. Oggi il mercato anche se non ti chiede un prodotto biologico vuole un prodotto con poco residuo. Quindi l'agricoltore è costretto ad andare verso i sistemi alternativi. Torno al professor Giorgio Celli. Dai suoi studi si dimostrò che in questo territorio, in particolar modo Cesena a quei tempi era Cesena-Forlì, erano la patria dell'ortofrutta, parliamo della fine degli anni Ottanta, facendo un monitoraggio con le api si dimostrò che c'era una presenza di inquinamento da pesticidi altissima in questo territorio e c'era una stretta correlazione, o almeno si arrivò a una stretta correlazione fra la percentuale di malattie tumorali nell'ambito della popolazione agricola e lo stato di salute del territorio. Si decise quindi di fare qualche cosa e tra le cose che sono state create allora e sono poi state portate avanti da noi fino a derivare dove siamo adesso, la realizzazione di un'embeofabbrica. Forse voi non sapete che qui a pochi chilometri, lungo la via Emilia, al confine tra Bertinoro e Cesena, proprio sul confine, c'è un'azienda che produce ogni anno miliardi di insetti e organismi utili che vengono venduti e distribuiti all'agricoltura e non solo per un utilizzo alternativo ai pesticidi. Parliamo di un'aziendina con un centinaio di persone, quindi non parliamo più di un laboratorio, unica in Italia, ce l'abbiamo qui a Cesena a due passi. Ecco, produce queste cose qui, insetti. Insetti, come vedete ogni insetto ha un nome, cognome e c'è scritto a cosa serve, quindi avrete predatore di afidi, predatore di mosca bianca, predatore di ragnetto rosso. Cosa fa di fatto la biofabbrica? La biofabbrica questi insetti li produce, li mette all'interno di confezioni con l'etichetta che dice questo prodotto serve per combattere questo insetto dannoso. Queste bottiglie vengono poi spedite all'agricoltore che le utilizza per fare un trattamento. Vogliamo chiamarlo così, solo per rendere l'idea. Questo è come lo usa l'agricoltore, praticamente questi insetti acari utili hanno un utilizzo in agricoltura a 360 gradi. Parliamo di culture di serra, così come di culture estensive, parliamo di culture da frutto, parliamo di culture floreali, parliamo di verde, verde pubblico e anche verde privato, perché anche chi ha gli orti o il giardino di casa, oggi anche grazie alla possibilità di acquistarli online può usufruire di questi prodotti. Vengono distribuiti semplicemente rilassiandoli nell'ambiente, è ovvio che non mi posso dilungare qui nei dettagli, addirittura oggi per favorire una diffusione in agricoltura di questi sistemi c'è stata un'evoluzione parallela anche di mezzi meccanici della distribuzione tra cui sempre più frequente l'utilizzo dei droni, quindi potreste vedere sopra le campagne dei droni che girano sopra i campi e che lasciano cadere di fatto degli insetti al di sotto, insetti buoni. Ecco, velocissimamente ho praticamente finito, questi sono i principi attivi che noi andiamo a vendere, questi sono i pesticidi tra virgolette che noi andiamo a vendere, cioè insetti che mangiano altri insetti, oppure insetti che uccidono gli altri insetti semplicemente utilizzandoli per la riproduzione, il caso dei parassitoidi. Il tutto col concetto di equilibrio che prima la dottoressa Paganelli in qualche maniera ha ben spiegato, seppure parlando del suolo. Un antagonista che combatte un altro antagonista, che combatte una cosa a noi dannosa. Antagonista che non è pericoloso né per noi né per l'ambiente perché in realtà noi andiamo a ripristinare degli equilibri che in natura sarebbero naturalmente presenti. noi non possiamo mettere nell'ambiente niente che non sia già riconosciuto come potenzialmente presente in quell'ambiente, semplicemente artificialmente noi andiamo a alzare il livello per arrivare a un equilibrio a noi favorevole. Ecco, l'ultima cosa, hai messo non dato troppo, ah ecco, è questa la diapo che mi interessa far vedere, bambini. Questi sono gli interventi che noi abbiamo fatto nelle pinete di Cervi Milano Marittima in cui abbiamo fatto un trattamento, in realtà l'abbiamo fatto per dieci anni consecutivi, ai pini di Milano Marittima liberando delle coccinelle. E chi è che ha fatto il trattamento? I bambini, le scuole. Quindi il concetto di fare un trattamento e addirittura impiegare i bambini si allontana di gran lunga da quel concetto di pesticide che vi ho presentato con la prima diapositiva. Divulgazione è anche il motivo per cui io sono qui, non per farmi pubblicità, ma per dare un contributo e dire che in realtà in questi decenni, in questi ultimi decenni, qualcosa di buono abbiamo fatto, qualcosa di importante abbiamo fatto e ancora tanto c'è da fare. Concludo dicendo che ho trovato questa frase che è di un anonimo, ma la sento anche mia, cioè vorrei non dover più lavorare per salvare l'ambiente, perché vorrei essere in un ambiente che non ha bisogno di essere salvato. Grazie. Grazie dottor Toschi di questa apertura verso la lotta biologica, per aver ricordato Giorgio Celli, che è una persona certamente cara e che in qualche modo ci ha lasciato prematuramente. Credo anche di notare con un po' di sorpresa questa presenza di confini tra Bertinoro e Cesene, che non avevo percepito, mi ha ricordato Ivano Marescotti nel localismo della Romagna, che è forte e ben radicato. Poi, detto da un emiliano, può sembrare anche polemico, ma non lo è. Torniamo in ambito più accademico e chiamo a parlare il professor Giovanni Barbara dell'Università di Bologna con una interessantissima e ampia relazione dal titolo Il microbiota in oncologia digestiva, ma penso che ci dirà anche altro e di più. Prego, professor. Grazie, grazie di cuore e grazie anche agli amici Carlo e Giorgio per l'invito gradito. Mi fa molto piacere essere qua in questa bella sede e vedere un'aula così piena. Passiamo da un ecosistema a un altro e il compito è abbastanza complesso, perché oncologia è un argomento sicuramente vastissimo, microbiota altrettanto vasto, combinare i due è un compito difficile e soprattutto anche parlare una platea composta sia di tecnici che non, quindi mi scuseranno i tecnici se sarò banale e le persone che non sono del mestiere se sarò troppo tecnico, quindi cercherò di trovare il giusto equilibrio. Allora, microbiota e oncologia digestiva. Se vogliamo tutto inizia con questo signore qui. Questo è Iliam Echnikov, non è un uomo comune perché è un premio Nobel Lui condivise il Nobel, vedete nel 1908, a una gara all'ultimo esperimento con un altro cattedratico forse più blasonato di lui, che era Paul Erlich e arrivarono al Nobel perché uno aveva la teoria secondo la quale noi ci difendiamo dalle infezioni con l'immunità umorale, cioè quella che circola nel sangue, Erlich, e invece Mechnikov diceva che sono le cellule nei tessuti, i macrofagi, che ci difendono dalle infezioni, fagocitandoli e eliminandoli dal sistema. E Mechnikov vince il Nobel perché alla fine riesce a dimostrare questa famosa fagocitosi, con un microscopio che lui teneva addirittura nella sua camera da letto e guardava questi tessuti di notte. Però la grande passione di quest'uomo erano i microbi. Lui era un visionario e diceva che tutte le malattie dell'uomo vengono dalla putrefazione che c'è nel colon e quindi è una malattia che nasce dai nostri visceri. E lui non era un medico ma visitava dei pazienti, soprattutto delle pazienti che avevano anche patologie psichiatriche e diceva signora non è un problema, la sua ansia, la sua depressione la possiamo curare togliendo il colon. Queste donne uscivano, scappavano dallo studio e lui le richiamava e diceva no, se volete c'è anche un'alternativa, ci sono i fermenti lattici. E quindi era veramente un visionario perché collegava addirittura i microbi dell'intestino con le patologie psicologiche. Oggi sappiamo che questo asse esiste, lo chiamiamo microbiota asse, microbiota cervello. Poi viene dimenticato, questi studi lui non aveva di fatto gli strumenti per dimostrare quello in cui credeva, viene dimenticato e arriviamo ai giorni nostri. Cento anni dopo c'è un grande progetto, il progetto Genoma, che impiega 16 anni per essere completato, ricercatori americani ma un progetto globale e si aspettano i ricercatori di trovare nel genoma umano, sequenziandolo tutto, 100.000 geni. Prima delusione, ne trovano solo 26.000. Sapete quanti geni ha una pianticella di riso? Ne ha 46.000. Quindi l'uomo perde, diciamo, la sua supremazia, il suo ruolo all'interno del mondo e dell'universo, il ruolo centrale dell'uomo perché è addirittura meno importante da un punto genetico rispetto a una piccola pianticella di riso. Però, con le scoperte recenti del microbiota, i microbi che vivono con noi e dentro di noi, ci portano questi microbi un sacco di geni, fino a 100.000 geni. Quindi con loro raggiungiamo di nuovo la supremazia sulla pianta di riso. La ricerca scientifica è dettata da ritmi spesso erratici, incontrollabili, spesso da scoperte, se vogliamo, casuali, come ad esempio gli antibiotici o altre scoperte della scienza, che accelerano moltissimo la scienza e la ricerca, e ci portano a grandi scoperte che cambiano il destino di determinate malattie e quindi dell'umanità. Questo è un momento di grande accelerazione perché il microbiota è una di queste novità. Perché c'è stata questa svolta epocale? Perché fino a 20 anni fa, forse anche un po' meno, noi potevamo dire qualche cosa sui microbi dell'intestino coltivandoli su una piastra di petri in laboratorio. La stragrande maggioranza dei microbi dell'intestino è anaerobia, cioè se li mettiamo a contatto con l'ossigeno non crescono o addirittura muoiono. Quindi non sapevamo nulla di quell'ecosistema importantissimo che c'è dentro il nostro intestino. Arriva la biologia molecolare che è indipendente da queste tecniche di coltura e questa ci dice esattamente tutto sul genoma di quei batteri che sono presenti nel nostro intestino. Allora vedete che la letteratura scientifica esplode. Scopriamo un nuovo organo che non conoscevamo e che ha delle implicazioni importantissime per la salute umana. Si tratta del cosiddetto microbioma umano, microbioma sta per geni associati al microbiota, mentre microbiota è tutto l'ecosistema. E questo ecosistema è con noi e come detto dentro di noi, con noi perché è su tutte le superfici del nostro corpo, dai capelli alla pelle al tratto genitorinario e al tratto respiratorio, ma è soprattutto a livello del canale alimentare. Ci sono dei grandi gruppi che diciamo sono molto più rappresentati, piccoli gruppi ma non per numerosità meno importanti perché possono essere estremamente funzionali. Questo è l'intestino e qui vedete colorati i vari batteri, ma non sono solo batteri, sono anche funghi, sono anche virus, sono anche fagi, virus che infettano i batteri dell'intestino e ne regolano le funzioni, la vita e la morte, separati dal nostro corpo umano da quello straterello verde che è il muco e da quello straterello blu che sono le cellule epiteliali. Un compito importantissimo perché non vogliamo che questa roba invada il sangue e vada nel cervello, nel fegato, nella minza. Quindi abbiamo una convivenza con ciò che c'è di buono e di meno buono all'interno di questo ecosistema e il nostro corpo umano. E questo sistema si evolve nel corso della vita. Nasciamo sterili, secondo alcuni nella placenta c'è già qualche cosa, ma fondamentalmente gran parte del microbiota lo acquisiamo con la nascita e poi il microbiota dopo questa fase, dopo la nascita di instabilità notevole, con lo svezzamento e la dieta solida si stabilizza nel corso della vita fino a diventare di nuovo instabile negli anziani, nei grandi anziani. Cosa influenza il microbiota nel corso della vita? Tantissime cose. Non solo gli antibiotici che possono minare seriamente il microbiota intestinale e non, ma anche fare un viaggio, ad esempio, oltreoceano modifica il microbiota. Anche cambiare la dieta. Il sistema del microbiota è un sistema estremamente plastico. Mentre i geni dell'uomo impiegano millenni per cambiare, i geni del microbiota impiegano 24 ore. Se noi passiamo da una dieta proteica a una dieta ricca di carboidrati, i geni del microbiota cambiano completamente nell'arco di una notte. Cosa influenza? L'abbiamo sentito poco fa la modalità con cui veniamo alla vita. Parto cesareo, i microbi che arrivano nell'intestino del nascituro assomigliano ai microbi dell'acute della mamma. E non sono tanto buoni. I microbi che invece otteniamo attraverso il parto naturale, vaginale, sono molto ricchi di lattobacilli, bifidobatteri. Buoni. Allora qui nasce il concetto che il parto cesareo non è tanto buono in questa fase delicata della vita dove abbiamo bisogno di microbi che educano il sistema immunitario, ci difendono dalle infezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Parto al seno, un'altra grandissima, diciamo, funzione, come quella della mamma che allatta il bambino, attraverso questo non sono tanto i microbi che arrivano nell'intestino, ma sono questi oligosaccaridi, di cui il latte materno è molto ricco, che stimolano un microbiota sano, ricco di bifidobatteri, attraverso dei meccanismi che adesso non sto a spiegarvi, ma vengono prodotte delle sostanze che poi stimolano il sistema immunitario a essere molto tollerante e poco aggressivo, quindi meno pro-infiammatorio e più difensivo. Se andiamo in giro per il mondo, cosa succede? Che quella biodiversità che abbiamo sentito negli ecosistemi non solo umani, ma anche dell'ambiente, la foresta amazzonica, la barriera corallina, la fauna e anche l'ecosistema intestinale deve essere estremamente biodiverso, ricco, ci devono essere tanti batteri, tanto diversi, tanto più sono diversi, tanto meglio. Questi Yanomami e i Guaibo sono delle popolazioni del Sud America, i primi molto isolati, non hanno mai visto un antibiotico e mangiano frutta e verdura, i secondi un po' più vicini al mondo occidentale, fino ad arrivare ai bambini degli Stati Uniti. Vedete, la biodiversità, cioè questa ricchezza del microbiota, si perde mano a mano che andiamo verso il bambino più occidentale. L'altro grosso errore della nostra vita è quello di ridurre ciò che stimola la biodiversità, ciò di cui si nutre il nostro microbiota, cioè i carboidrati complessi, che noi non saremmo in grado di digerire, ma che il microbiota digerisce, ci fornisce come prodotto di scarto delle sostanze che sono molto utili per la nostra vita, gli acidi grassi a catena corta, ad esempio. Questo è un esperimento fatto nel topo Gen Free, cioè che nasce senza microbi e viene umanizzato, cioè con il microbiota dell'uomo noi rendiamo quel topo umanizzato. Poi gruppi di topi così umanizzati vengono messi a una dieta ricca di fibre a sinistra o una dieta povera di fibre a destra. Cosa succede nel topo che ha poche fibre? Fondamentalmente il microbiota cambia, muta e non ha più una fonte di energie, che cosa fa? Inizia a utilizzare quello che trova, quel muco verde, quello straterello che abbiamo visto precedentemente e che ci difende. Quindi i batteri, che tra l'altro nel frattempo sono diventati molto più aggressivi, si avvicinano molto all'epitelio, lo invadono, determinano l'infiammazione e la cosiddetta traslocazione batterica. Allora si entra nel concetto di disbiosi, un termine scivoloso che non è molto apprezzato dai tecnici, ma ci rende bene l'idea di questo disequilibrio all'interno del microbiota intestinale dove andiamo verso i patogeni, verso quei batteri cattivi, si riducono i buoni e quindi si va incontro alle malattie. Quali malattie? Tantissime e non solo intestinali. Lì in basso a destra trovate alcune malattie intestinali, l'esempio più classico è la malattia da clostridium difficile, un'infezione che può essere letale nei soggetti anziani con polimorbidità. Però anche malattie extraintestinali, rapporti tra microbiota e apparato cardiovascolare, rapporti tra microbiota e cervello, rapporti tra microbiota e obesità addirittura. Quindi questi rapporti sono importanti. E l'oncologia cosa c'entra? L'oncologia c'entra perché molti di questi germi hanno un ruolo in alcune patologie oncologiche. È un mondo in crescita, dobbiamo imparare ancora molto, molto lo stiamo imparando da esperimenti preclinici in animali del laboratorio, però ci sono anche delle evidenze forti in clinica. Questo è l'esofago di Barrett. Io faccio una discesa verticale dall'esofago fino al colon, passando dal pancreas. Solo alcuni esempi, non voglio essere assolutamente tecnico, ma sapete che l'esofago di Barrett e soprattutto l'adenocarcinoma che si associa all'esofago di Barrett è uno dei cancri in più forte ascesa. C'è una grande crescita di questa neoplasia. Cosa c'entra l'esofago di Barrett con il microbiota? Perché nell'esofago, rispetto a quello che pensavamo ai tempi in cui io studiavo medicina, cioè l'esofago e lo stomaco sono sterili, ma che? Sono pieni zeppi di microbi e di microbiota. E c'è un'associazione tra una disbiosi in questa zona e lo sviluppo di adenocarcinoma su esofago di Barrett. Qui vedete gli esempi, aumento di proteobatteri, aumento di entrobacteriacea, vi dico dei nomi che possono non dirvi nulla, di riduzione di verglione nella. Però, fatto sta, c'è uno squilibrio tra quei batteri che sono pro-infiammatori o pro-oncogenetici. Ad esempio, ci sono alcune popolazioni batteriche contenute in quell'aumento che possono determinare delle alterazioni del DNA delle cellule somatiche. Tutto da dimostrare, perché qui siamo solo agli albori. Questa è la sequenza classica, dalla metaplasia fino al cancro del colon e fino allo sviluppo di metastasi del cancro del colon. In queste fasi, praticamente in tutte le fasi, il microbiota c'entra molto. Qui, ancora una volta, sono diapositive complesse, non voglio assolutamente entrare nel dettaglio, però se integriamo metagenomica, una tecnica di biologia molecolare che sequenzia tutto il microbiota, fino ad arrivare alla shotgun, che è questa tecnica che ci dice esattamente fino all'ultima specie, che cosa c'è dentro, i componenti di quell'ecosistema. E metabolomica, cioè che cosa producono questi elementi del microbiota. e quindi è molto più importante sapere rispetto a chi c'è lì, che cosa fa. Quindi la metabolomica associata alla metagenomica ci dice che c'è un'associazione e che noi, in grado a queste caratterizzazioni, possiamo trovare delle differenze nel cancro colorettale rispetto ai soggetti di controllo. Anche questa diapositiva assolutamente non è mia intenzione entrare nel dettaglio, ma ci dice semplicemente che i meccanismi, i ricercatori li stanno studiando e ci sono delle interazioni tra microbiota e ospite molto importanti, ad esempio la produzione di genetotossine, ancora una volta vi dico dei termini forse molto complicati, l'interazione tra dieta, microbiota e cancro del colon. Quindi è un'interazione, un interplay molto complesso, ma che sicuramente è molto rilevante. Altro esempio è quello della relazione tra microbiota e cancro del pancreas. Torniamo agli anni in cui mi sono laureato io, nessuno avrebbe mai detto che c'era un microbiota all'interno dei dotti pancreatici, così come si riteneva che lo stomaco fosse sterile. Però c'è un microbiota lì dentro e nel cancro del pancreas il microbiota sia intestinale che della bocca, che è quello del pancreas, è diverso in questi soggetti che sviluppano il cancro del pancreas rispetto ai soggetti di controllo. Ancora di più, oggi c'è grande rilevanza allo sviluppo di cancro del pancreas e il micoma. Vi ricordate che vi avevo detto che il microbiota è composto anche da funghi. Abbiamo un micoma molto sviluppato, questi sono lavori di Nature, di qualche anno fa, che ci dicono che il micoma è diverso in quelli che sviluppano cancro del pancreas rispetto alla popolazione di controllo e nel riquadro nero, questi sono esperimenti fatti nell'animale, guardate lo sviluppo di cancro del pancreas in via sperimentale e il trattamento con antimicotici. I topolini trattati con gli antimicotici e anche con certi antibiotici hanno una riduzione visibile nel riquadro delle dimensioni del tumore. Quindi sembra esserci una correlazione abbastanza importante. Vado via rapido adesso sulle terapie. Checkpoint inibitors, molti di voi sanno che cosa sono, sono queste terapie innovative che funzionano in alcuni soggetti che rispondono rispetto ai non-responders e che sono un'evoluzione della più, diciamo, stabilita terapia con la chemioterapia, c'è un legame tra, ancora una volta, microbiota e checkpoint inibitors. Se io faccio una terapia con i checkpoint inibitors e prima di iniziarla o durante il trattamento utilizzo degli antibiotici per mille motivi, le curve di sopravvivenza e di progressione del tumore vanno molto peggio. Quindi, attenzione, perché qui c'è di nuovo un link importante tra microbiota e risposta alla terapia con i checkpoint inibitors. Se poi vado ancora più nel dettaglio e vado a vedere il microbiota con la metagenomica di chi ha risposto rispetto a chi non ha risposto, chi risponde a un microbiota ricco di determinate popolazioni microbiche come ad esempio Ackermansia mucinipida. Perché vi faccio l'esempio della Ackermansia? Perché la Ackermansia adesso è stato sviluppato come un nuovo probiotico, viene venduto per mille indicazioni, ma tra queste, forse un domani, avremo anche quella della risposta alla terapia oncologica. Vado rapidamente alla conclusione facendovi l'ultimo esempio, che è quello del trapianto di microbiota, che se ne parla molto oggi, ma è sicuramente una metodica antica. Già dal IV secolo dopo Cristo si utilizzava questa metodica. Fino ad arrivare ai giorni nostri, io devo dire che è ancora una metodica molto rudimentale. Cioè prendo il microbiota di un soggetto sano e attraverso una colonoscopia o un sondino intestinale lo trasfondo a un soggetto malato. Però ci sono dei risultati straordinari. Chi ha quella malattia letale che si chiama clostridium difficile, resistente alla terapia standard antibiotica, perché è un paziente anziano con più malattie, che è ospedalizzato, eccetera, mentre con la terapia antibiotica ha una risposta del 40-50%, con il trappianto di microbiota ha una risposta del 96%. Quindi è una terapia salva vita. Meno chiaro è quale può essere l'indicazione in altre patologie, dove il microbiota ha un ruolo meno definito, però si sta lavorando molto su questo trappianto di microbiota. Allora andiamo a vedere un'altra condizione, non gastrointestinale, ma è il melanoma in questo caso. Bene, melanoma che viene trattato con i checkpoint inhibitors, una quota parte risponde, una quota parte non risponde. Prendiamo il microbiota di quelli che hanno risposto ai checkpoint inhibitors e facciamo un trappianto di microbiota e non risponde. Recuperiamo una buona quota di quei pazienti che iniziano a questo punto a rispondere. Quindi c'è un ruolo importante del microbiota nelle patologie oncologiche. A Bologna devo dire che con soddisfazione abbiamo ottenuto l'approvazione ministeriale per fare il trappianto di microbiota qualche anno fa. È il primo centro in Italia pubblico, l'altro è il Gemelli che ci lavora già da tanti anni, privato. Stanno crescendo i centri in giro per l'Italia di trappianto di microbiota. Speriamo che un domani diventi una metodica stabilizzata per il trattamento di determinate patologie. Probabilmente verrà superata da metodiche più innovative la selezione di quei ceppi a cui i pazienti rispondono. Però potete anche nel frattempo donare. C'è un numero di telefono qui ci sono tutte le indicazioni che trovate su internet e questa è una cosa molto importante perché potete ricordarvi che probabilmente questa mattina avete perso l'occasione di salvare una vita. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Giovanni per questa veramente interessante relazione. Immagino che dopo al termine della sessione ci saranno diverse domande. Andiamo avanti perché dovremmo avere in collegamento dottoressa Silvia Carrara che è il presidente dell'AISP l'avete sentito prima l'associazione italiana per lo studio delle malattie del pancreas da quest'anno è diventata presidente lei e ci farà proprio una relazione sul stile di vita e i fattori predisponenti al tumore del pancreas. Buongiorno a tutti mi sentite? Sì sì molto bene molto bene ti vediamo ma non vediamo la relazione Buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito in questa giornata che è veramente molto importante per noi medici ma soprattutto per le associazioni dei pazienti che immagino siano presenti in sala quindi spero di fare una relazione che porti anche qualcosa ai nostri pazienti mi è stato chiesto di parlare di stile di vita e i fattori predisponenti al cancro del pancreas che è un argomento molto importante proprio perché ci permette di parlare di quali sono i fattori sui quali potremmo agire nel cercare di ridurre il tumore del pancreas perché dobbiamo parlarne perché sappiamo che è uno dei tumori che sta aumentando nei nostri paesi occidentali e l'anno scorso abbiamo avuto circa 14.500 nuove diagnosi di adenocarcinoma del pancreas in Italia sono tante sono in aumento e quello che è un dato di fatto è anche la diminuzione dell'età media dei pazienti con tumore al pancreas quindi prevediamo che entro il 2030 più o meno probabilmente diventerà la seconda causa di morte per tumore nei paesi occidentali chi interessa maggiormente ovviamente il principale fattore di rischio è l'età è uno dei tumori che colpisce maggiormente le persone oltre i 65 anni ma in realtà fino a pochi anni fa pensavamo fosse il tumore dell'anziano dell'ultraottantenne in questi ultimi anni abbiamo visto come l'insorgenza credo che tutti abbiamo esperienza di come l'insorgenza possa interessare anche persone al di sotto dei 50 anni quelli che noi chiamiamo l'early onset pancreatic cancer e che può rappresentare addirittura fino al 10% degli adenocarcinomi duttali che vediamo e che condiziona molto anche gli anni potenziali di vita che vengono persi dalla popolazione in generale quindi possiamo fare qualcosa per prevenirlo sappiamo che c'è una prevenzione primaria che riguarda le malattie in particolare i tumori sulla quale possiamo agire e sulla quale la tutela della salute da parte del singolo soggetto ma anche da parte delle autorità e delle istituzioni può avere un ruolo molto importante allora questo è un breve elenco dei fattori di rischio per il tumore del pancreas li vediamo singolarmente il fumo è il principale fattore di rischio questo è importante che lo sappiano anche i pazienti perché spesso viene correlato a patologie cardiovascolari o al tumore del polmone ma è uno dei principali fattori di rischio del tumore al pancreas è più alto in chi fuma un elevato numero di sigarette al giorno e in chi fuma da più anni mentre smettere di fumare potrebbe appunto ridurre il rischio di tumore al pancreas pensate che da quanto ci riporta IOM e anche l'associazione italiana del registro tumori eliminando completamente il fumo potremmo evitare un buon 33% di decessi per tumore in generale del pancreas negli uomini e un 13% nelle donne quindi questo sarebbe già un'azione molto importante nella popolazione generale purtroppo anche dove andiamo a ridurre il fumo un altro aumento di patologia che stiamo vedendo in questi ultimi anni è l'obesità che affligge non solo la popolazione adulta ma anche i bambini sappiamo quanto sia importante l'alimentazione sin dall'infanzia proprio nei primi anni di vita come fattore di rischio poi per i tumori che si potranno sviluppare in futuro la prevalenza globale dell'obesità è triplicata addirittura tre volte tanto rispetto al 1975 e appunto l'obesità è causa di circa il 10% dei tumori del pancreas quindi in un contesto come questo e proprio in una giornata come quella di oggi parlare di movimento che è quello che ci raccomanda l'organizzazione mondiale della sanità e anche il nostro ministero della salute è sicuramente importante il diabete in mellito è un fattore di rischio per il tumore al pancreas anche questo entrambi un fattore di rischio è una complicanza diciamo che il rischio di tumore al pancreas è più alto nei primi primo anno primi tre anni dell'insorgenza del diabete in particolare nei sei mesi dall'insorgenza le stesse cellule tumorali possono causare un'alterata funzione delle cellule beta appunto è difficile ed è complessa l'interazione tra diabete e tumore del pancreas e molte cose le dobbiamo ancora chiarire quello che possiamo dire ad oggi è che favorire uno screening di massa nella popolazione diabetica non è possibile sicuramente identificare alcuni soggetti che potrebbero essere particolarmente a rischio di tumore del pancreas essendo diabetici può essere una cosa molto importante che può fare anche il medico di medicina generale cominciare a proporre alcuni esami anche strumentali se c'è una qualche evidenza che ci possa essere un rischio aumentato di tumore del pancreas l'alcol sappiamo che è un fattore di rischio per il fegato ma anche per il pancreas diciamo che quello che crea l'alcol è uno stato di infiammazione generalizzata della ghiandola pancreatica e quindi come la pancreatite come anche la pancreatite cronica che deriva dall'alcol è un fattore di rischio per lo sviluppo del tumore del pancreas anche su questo fattore esogeno che introduciamo ovviamente dobbiamo stare attenti e quindi dall'alcol vengo a parlare di dieta la dieta abbiamo visto delle relazioni molto belle prima di me quanto sia importante un'alimentazione corretta e sana sicuramente diete basate su frutta verdura e cereali integrati sono associati a un minor rischio di tumore dal pancreas mentre diete con abbondanza di carni rosse di insaccati di zuccheri oppure di grassi e saturi aumentano il rischio di tumore del pancreas di nuovo ribadisco quanto importante il regime dietetico e il mantenimento di un peso forma nei primi anni di vita questo significa che potremmo veramente agire a livello di scuole elementari di interazione con gli insegnanti perché ricordiamo che le norme igieniche dietetiche sono veramente alla base della nostra salute il microbiota non aggiungo niente a quanto è già stato detto in maniera eccellente però anche sul tumore al pancreas ricordiamoci che ci sono molti studi e altri dovranno essere richiesti per confermare il rischio correlato a disturbi per esempio periodontali associati ad aumentato sviluppo di particolari ceppi batterici e appunto il tumore del pancreas può essere colonizzato da alcuni ceppi di batteri e questo sicuramente sarà motivo di futuri studi la pancreatite come vi ho detto prima sia scatenata da fattori esogeni come l'alcol e il fumo ma anche ricordiamoci la pancreatite cronica qui da causa ereditaria qui rientreremo poi nei fattori di rischio genetici del tumore al pancreas pancreatite intesa appunto come un'infiammazione cronica un danno permanente al pancreas che come succede in tanti altri organi appunto un continuo stato infiammatorio può aumentare il rischio di evoluzione in tumore e veniamo adesso alla genetica perché è una parte molto importante che stiamo conoscendo soprattutto in questi ultimi anni come fattore di rischio per il tumore del pancreas e anche come AISP stiamo veramente cercando di fare molto sul territorio nazionale uno screening di massa non è fattibile l'abbiamo detto però in alcune popolazioni a rischio e soprattutto se identifichiamo delle condizioni genetiche di base che possono predisporre al tumore del pancreas e identifichiamo delle lesioni precancerosi possiamo farle possiamo fare prevenzione questo è giusto per farvi capire come la gran parte degli adenocarcinomi circa il 90% sia sporadico ma un buon 10% può rientrare in quella categoria di soggetti che possono avere il cosiddetto FPC familial pancreatic cancer o delle sindrome ereditarie dovute a varianti patogenetiche cioè a mutazioni di geni correlati al tumore del pancreas l'FPC vi spiego si intende una popolazione di soggetti che rientrano in famiglia dove c'è un'aggregazione di due o più familiari con tumore al pancreas quindi da qua identifichiamo soggetti che possono avere un rischio genetico e in questi possiamo identificare dei precursori del cancro del pancreas e cosiddetti panin l'enoplasia pancreatica intrepitelliana diciamo che è una realtà anatomopatologica ancora difficilmente identificabile dal punto di vista dell'imaging sia radiologico che coendoscopico ma sull'IPMN possiamo sul cosiddetto intradatto papillary musinus neoplasma possiamo invece agire perché possiamo vederli attraverso la risonanza l'icoendoscopia e tenerli monitorizzati e questo è un modello di progressione un po' simile a quello che succede neanche nel tumore del colon attraverso vari gradi di displasia sino alle varie mutazioni che sostengono appunto i gradi di displasia fino alla displasia di alto grado e l'aspetto più invasivo dell'adenocarcinoma giusto per ricordarvi quali possono essere alcuni geni correlati a sindrome ereditarie e anche ad aumentato rischio del tumore del pancreas come BRCA1 e 2 PALP2 e non dimentichiamo anche la sindrome del melanoma familiare che sta causata da una variante patogenetica in CDKN2A adesso vi parlo del registro dell'AISP del registro della familiarità perché è molto importante in questi ultimi anni ha avuto una diffusione nazionale anche a Fornì abbiamo veramente un'ottima collaborazione col vostro gruppo e vi ringraziamo per quanto state facendo e i criteri di inclusione lo ricordo anche per i partecipanti sono soggetti con almeno due parenti effetti da cancro del pancreas di cui uno di primo grado o soggetti che hanno quelle mutazioni note che abbiamo specificato prima con almeno un consanguino se sono BRCA1 o 2 CDKN2A o PALP2 oppure soggetti con pezzieger con la pancreatite genetica appunto cronica genetica e con una sindrome di Lynch gli obiettivi del nostro registro sono raccogliere dei dati che siano sia anagrafici che anamnestici che clinici che di imaging e identificare delle lesioni in fasi precoce quindi gli early pancreatic cancer obiettivi secondari sono identificare dei fattori di rischio per le lesioni tumorali o anche valutare l'impatto psicologico sui pazienti perché ricordate che adesso ho parlato dei pazienti ma più delle volte sono soggetti sono delle persone sane che vengono arruolati in registri e quindi noi li teniamo monitorizzati però pensate che possono anche tutti questi accertamenti che facciamo creare una certa ansia al paziente altri si sentono invece tenuti diciamo in considerazione dal medico e soprattutto hanno una riduzione del loro stato emotivo della loro paura essendo all'interno dei protocolli questo ci tengo a presentarvelo perché è stato recentemente pubblicato l'esito di un nostro risultati a tre anni di sorveglianza dei soggetti arruolati in questo registro su 156 individui ed aumentato rischio quindi appartenenti alle categorie FPC familiar pancreatic cancer o soggetti con varianti patogenetiche li abbiamo sottoposti a sorveglianza con risonanza e o ecoendoscopia e in 18 centri italiani quello che abbiamo trovato sono stati 8 tumori pancreatici da questa sorveglianza è interessante il dato della quota di resecabilità superiore al 60% se voi pensate che quando un paziente arriva con una diagnosi di tumore al pancreas in più dell'80% dei casi ha un tumore localmente avanzato o comunque non resecabile e che solo quindi il 15 o 20% va alla chirurgia in questi soggetti ripeto un particolare gruppo di soggetti a rischio fare una sorveglianza ravvicinata in centri esperti di pancreas ci ha portato a resecare il 60% delle lesioni trovati quindi la sorveglianza ha un senso e porta a diagnosi precoce nei soggetti a rischio studio gemello di questo lo studio profitta grazie a quanto hanno dato diciamo come fondi la fondazione Valsecchi e oltre la ricerca siamo riusciti a garantire a dei pazienti ruolati nel registro dei tamponi salivari siamo partiti con i primi centri che avevano eseguito l'arruolamento all'inizio e da settembre abbiamo esteso questo studio a tutti i centri che ne stanno facendo richiesta e abbiamo eseguito 128 tamponi salivari che ripeto dobbiamo veramente ringraziare le due associazioni Nadia Valsecchi oltre la ricerca perché il loro contributo è fondamentale per questo abbiamo trovato sette mutazioni sette varianti patogenetiche i geni che sono coinvolti li vedete qui quindi qui sicuramente potremo avere ulteriori dati con l'arruolamento di altri centri l'esecuzione di ulteriori tamponi e speriamo di darvi i risultati finali al prossimo AISP concludo con questi due studi sull'importanza vedete anche qua dello screening nei soggetti con mutazione del melanoma familiare e anche qua dimostriamo come la quota di ressecabilità dei soggetti che sono tenuti in sorveglianza con risonanza magnetica o decoendoscopia è del 75% con una sopravvivenza a 5 anni del 24% sappiamo che la sopravvivenza del tumore del pancreas purtroppo ancora oggi è attorno al 9-10% a 5 anni se noi teniamo in sorveglianza soggetti con questo aumentato rischio riusciamo a migliorare la sopravvivenza dei soggetti la stessa cosa lo dimostrano questi studi che ci dicono appunto quanto possiamo ridurre la mortalità per l'adenocarcinoma del pancreas e con una sorveglianza che è costo-beneficio sia per il paziente che per le istituzioni pubbliche quindi come messaggi da portare a casa purtroppo il tumore del pancreas è ancora una neoplasia è effettivamente una neoplasia che fa paura e che aumenterà nei prossimi anni di questo siamo certi la prevenzione primaria possiamo farla sul territorio può farla ogni singolo soggetto perché comunque limitare il fumo l'apporto di alcol un corretto stile di vita che comprenda una dieta sana e uno sport comunque una vita all'aria aperta e insomma sana fa bene una prevenzione secondaria è fattibile se intesa come sorveglianza di piccoli gruppi a rischio non è pensabile al momento non abbiamo un marcatore non abbiamo uno screening di tecniche di immagini che possa screenare l'intera popolazione però sui piccoli gruppi possiamo arrivare precocemente e presto per fare questo dobbiamo ringraziare veramente le associazioni dei pazienti che sostengono i pazienti e noi i medici di AISP quindi ringrazio veramente loro per il supporto e voi per l'attenzione grazie per evitare di trattenerti in collegamento troppo tempo se ci sono uno o due domande te le facciamo subito ti ringrazio della relazione sei stata esaustiva è assolutamente precisa però magari se ci sono uno o due domande dal pubblico dai dai discussant che erano già presenti prego professor Martinelli buongiorno buongiorno complimenti la presentazione la presenza della delezione o mutazione del CDKN2A che ho visto in tutte le diapositive essere relativamente frequente apre siccome la mutazione la delezione del CDKN2A è vicina a un altro gene che si chiama MTAP e quindi è vicino a un gene che condiziona molto l'accumulo di un metabolita che è oncogenico e nello stesso tempo però è target di terapia non potrebbe darci già la possibilità ormai ci sono diversi inibitori che stanno focalizzando l'attenzione su MTAP in particolar modo il PRMT5 che sarebbe l'enzima che poi lo degrada e che si sposta completamente e diventa un po' il BRCA del CDKN2A del CDKN2A io siccome vedo che stanno emergendo proposte terapeutiche mi chiedevo se non possiamo già pensare a qualcosa di terapeutico anche dal punto di vista di questa delezione che è un po' sottovalutata forse dal punto di vista della conoscenza scientifica questo è vero ti ringrazio per questa argomentazione questo commento sicuramente sì noi stiamo cercando diciamo che è un argomento più oncologico però si sta cercando di arrivare a vari step dove si possa agire con dei target delle terapie target purtroppo al momento per i trial che abbiamo a disposizione e quelli che sono attualmente in corso non si sono ancora avute delle sicure evidenze scientifiche che possano permetterne l'utilizzo nella pratica clinica però sono sicuramente delle situazioni da tenere in considerazione e della ricerca si sta facendo anche in questo ambito purtroppo il pancreas non è il tumore del polmone siamo ancora indietro di anni anche da un punto di vista biomolecolare l'abbiamo tipizzato perché abbiamo tutta una abbiamo fatto tutta la valutazione genomica della dell'adernocarcinoma del pancreas l'abbiamo anche suddiviso in vari istotipi però serve ancora molto da fare altre domande prego dottoressa pini sì salve pini sarad oncologia faenza volevo intanto ringraziare l'associazione per questo sforzo attivo che sta facendo nella sorveglianza attiva di popolazione a rischio perché appunto è un punto molto importante ma anche molto difficile in queste patologie e volevo chiedere un attimo se potevamo riguardare insieme i criteri che utilizzate per selezionare la popolazione che viene sottoposta a sorveglianza attiva quindi parliamo di pazienti che hanno una familiarità giusto? allora gli FPC sono soggetti con familiar pancreatic cancer sono in genere soggetti che hanno da due o tre familiari in più con tumore al pancreas ma almeno un familiare di primo grado quindi solo pazienti che hanno una familiarità vengono sottoposti a questa vostra sorveglianza attiva questa di cui avete mostrato di cui hai mostrato i dati relativa ai tre anni in tre anni otto otto neoplasie e il 60% delle quali resecabili quindi senz'altro ottimi risultati allora tanti anni tanti pazienti la ricerco questo dimostra maggior ragione la difficoltà della sorveglianza attiva in queste in queste categorie di pazienti allora spero che lo vedete sì 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 lo vediamo aspetta che torno indietro voi state vedendo adesso il mio schermo giusto? sì sì lo vediamo allora questi sono i criteri in realtà posso dirti dai primi risultati le impressioni che abbiamo tutti quelli dove abbiamo trovato il cancro in realtà erano mutati devo dire che dall'FPC i puri famiglia pancreatic cancer o poi ci troviamo la mutazione infatti i tamponi che stiamo facendo hanno questa valenza noi abbiamo soggetti che rientrano nell'FPC che sono questi famiglia pancreatic cancer ok almeno due parenti di cui uno affetto di primo grado questo è classico famiglia pancreatic cancer in questo in realtà noi ci aspettiamo che un buon 10% abbia una variante patogenetica ed è quello che stiamo trovando con i tamponi e sono quelli che poi effettivamente evolvono la nostra impressione e gli studi degli olandesi lo dimostrano pubblicati l'anno scorso su gastroenterology è che colui che ha uno o due familiari ma non ha una variante patogenetica in realtà questo è il rischio che sviluppi un cancro del pancreas è veramente bassissimo rispetto a quelli mutati quindi quello che dovremmo fare è selezionare chi per una situazione di familiarità e anche io quello che chiedo è di valutare altri tumori in famiglia perché spesso abbiamo due zie col tumore alla mammella la mamma col tumore al pancreas un altro zio col tumore alla prostata allora qui ha senso andare a valutare se c'è una mutazione per esempio una mutazione in braca uno o due stiamo vedendo che questi sono quelli il piccolo gruppo il sottogruppo nel quale probabilmente dovremo mantenere un follow up stretto e infatti sono quelli che poi per esempio nell'ipmn vediamo che poi si sviluppa un espessimento dei setti si sviluppa poi il carcinoma in situ in questi siamo riusciti a fare la diagnosi precoce o nell'atm in quelli che hanno solo familiarità ma non hanno mutazioni non stiamo vedendo progressione quindi probabilmente dovremo scindere due gruppi diversi di rischio e ti dico i primi risultati europei lo dimostrano i nostri probabilmente quando avremo i risultati dei tamponi salivari pensiamo che potremo ridurre lo screening perché è uno screening che impegna veramente tanto le strutture fare la risonanza una volta all'anno l'ecoendo è molto impegnativa dal punto di vista del sistema sanitario visto che ultimamente ne parliamo tanto le associazioni pazienti sanno che sono i soggetti questi sono i soggetti a rischio nei quali potremmo fare una diagnosi precoce se riusciamo a risparmiare le risonanze solo a chi veramente ne ha beneficio facciamo il bene dei pazienti e anche della sanità pubblica altrimenti rischiamo di avere un eccesso di risonanze e soprattutto i centri che adesso stanno rolando esplodono perché questo succederà grazie ti chiedo solo l'ultima cosa quindi i risultati che hai mostrato quegli otto tumori che avete trovato in tre anni il denominatore quindi quant'era cioè quanti pazienti avete scritto 156 156 ok grazie ultima domanda e poi andiamo e poi ti lasciamo scusa l'ultima domanda no ci mancherebbe un tema che ci interessa molto grazie per la presentazione io sono Riccardo Mascheretti un medico di medicina generale di Forlì e mi chiedevo dottoressa Carrara quale se ci sono siccome ha detto prima che nei primi tre anni dall'esordio c'è dei pazienti con nuovo riscontro di diabete abbiamo la maggior parte dei tumori se ci sono appunto degli strumenti anche magari tecnologici che ci possono aiutare nello scrinare questi tipi di pazienti che sono tantissimi ovviamente soprattutto anche in ambulatorio allora come detto prima non abbiamo tantissimo nel senso che è stato fatto recentemente anche uno studio su un'ampia popolazione con un imaging cioè tutti i soggetti diabetici con diabete di nuova insorgenza sopra 50 anni sono stati sottoposti ATTAC di questi solo l'1% hanno trovato con un adenocarcinoma e tra l'altro era in fase avanzata quindi quello che ci manca allora la popolazione generale tutta la popolazione diabetica non si può fare uno screening e proporre un ATTAC non sarebbe cost effective non ci sta per la salute pubblica probabilmente anche qua dovremmo selezionare alcuni individui un po' più a rischio sia perché sono forti fumatori sono in sovrappeso hanno magari una familiarità qualcuno suggerisce un'ecografia fatta bene con i criteri di un'ecografia che va a valutare il pancreas che però non sempre l'ecografia soprattutto se il soggetto è in sovrappeso aiuta qualche altro studio ha proposto ecografia più cia19 9 quello che dovremmo cercare è probabilmente un marcatore biologico biochimico che ci possa aiutare a screenarli meglio ma attualmente non c'è e l'evidenza della letteratura non aiuta molto quindi purtroppo gli studi che ci sono in questo momento non aiutano su uno screening ci dicono di stare comunque attenti ai soggetti diabetici se in questo oggetto diabetico comunque c'è un qualcosa che diventa un campanello d'allarme un calo di peso un qualche segno di insufficienza anche esocrina del pancreas stiamoci un po' più attenti grazie perfetto grazie mille a dottoressa che così se vuoi rimanere collegata molto volentieri ma immagino che tu abbia altri impegni andiamo avanti grazie a voi con la relazione l'ultima della sessione la dottoressa Chiara Colucci dell'unità operativa di gastroenterologia di Forlice-Sena che ci parlerà un po' dell'importanza della presa in carico dei pazienti dell'ambulatorio che è stato istituito qui all'ospedale del Morgagni e di quello che è un po' l'attività del gruppo prego grazie ai federatori grazie ai direttori del corso io vi parlerò oggi appunto dell'importanza di questo grande argomento della presa in carico in ambulatorio biliopancreatico le malattie del pancreas sono svariate sia acute che croniche sia benigne che maligne più o meno rare e cercherò ed è fuori da ogni dubbio ormai che la loro incidenza e prevalenza stanno aumentando e continuerà ad aumentare nelle prossime decadi considerate che se parliamo di incidenza quindi di nuovi casi annui delle principali patologie del pancreas parliamo di circa 6.000 nuovi casi di patologie pancreatiche all'anno cercherò di darvi i principali concetti per cui è fondamentale la presa in carico nelle principali patologie del pancreas riguardo la pancreatite acuta basta dire essenzialmente che è la terza causa più comune di accesso in pronto soccorso tra le patologie digestive e che è la patologia gastrointestinale più comune che richiede il ricovero ospedaliero è vero che nella stragrande maggioranza dei casi ha un outcome favorevole ma rimane una piccola fetta di pazienti in cui invece l'outcome è più sfavorevole e arriva addirittura a raggiungere un 15% di mortalità inoltre in un 20% dei casi l'episodio acuto è poi seguito da ulteriori episodi acuti che possono diventare multipli e si parla quindi in quel caso di pancreatite ricorrente che quindi si traduce in multiple ospedalizzazioni esami diagnostici e strategia terapeutica la pancreatite ricorrente a sua volta nel 35% dei casi provocando appunto degli insulti multipli e ripetuti alla ghiandola si può trasformare in pancreatite cronica pancreatite cronica come tutte le patologie croniche ha una fase precoce media e tardiva ed è proprio il ruolo dello specialista quello di cercare di intuire quando ci si trova davanti a quella zona grigia di early chronic pancreatitis dove possiamo ancora fare la differenza possiamo ancora far invertire la rotta al nostro paziente prima di arrivare ad una fase tardiva ed è fondamentale il ruolo dello specialista anche nel decidere quale tecnica di immagine tra quelle a disposizione è più adeguata per quel paziente in quel momento perché abbiamo a disposizione ormai tante tecniche oggi la TAC l'ecoendoscopia la risonanza magnetica sono tutte tecniche che noi utilizziamo molto ma qualcuna può essere meglio di altre in determinati momenti della storia clinica del paziente e poi abbiamo la pancreatite cronica ovviamente si può tradurre in un'insufficienza ghiandolare che può riguardare sia la parte esocrina che l'endocrina del pancreas ci può essere quindi un'insufficienza pancreatica esocrina che quindi si traduce in malassorbimento e deficit nutrizionali e quindi si può correlare alla presenza di sintomi e ulteriori complicanze quale ad esempio l'osteoporosi considerate però che le manifestazioni cliniche di un'insufficienza pancreatica esocrina arrivano soltanto quando più del 90% della ghiandola pancreatica è insufficiente per cui è chiaro che dobbiamo accorgersene prima e inoltre spesso c'è una correlazione con eventi cardiovascolari quindi con un qualcosa di più lontano meno difficile da correlare ad una problematica pancreatica e invece è proprio così inoltre l'insufficienza pancreatica esocrina spesso si pensa derivi essenzialmente dalla pancreatite cronica invece no ci può essere l'insufficienza pancreatica esocrina anche dopo un episodio acuto severo e ci può essere c'è ovviamente nel tumore del pancreas e la cosa importante che voglio sottolineare è che la diagnosi è tutt'altro che semplice perché appunto i sintomi del malassorbimento possono non essere presenti l'elastasi fecale che è un valore molto facile da dosare può in realtà essere normale nonostante però ci sia l'insufficienza e i deficit nutrizionali non sono appunto specifici ed è compito quindi dello specialista quello di adeguare le possibili strategie terapeutiche a quel particolare paziente perché in diversi momenti della storia naturale di malattia potremmo dover fare degli aggiustamenti in termini di dose o in termini di nuove strategie quale può essere ad esempio aggiungere dei PPI che mi incrementano l'efficacia della terapia enzimatica sostitutiva quest'ultima inoltre sappiamo qualcosina è cambiato negli ultimi anni prima avevamo a disposizione solo le 10.000 unità adesso anche le 35.000 con quello che ne consegue positivamente in termini di compliance però attenzione questa è una lettera che ci è arrivata proprio due giorni fa in quanto membri e PC dove si esprime della preoccupazione per la carenza che è ormai provata degli enzimi pancreatici non voglio comunque spaventare eventuali pazienti che assumono enzimi pancreatici le aziende ci hanno assicurato che i pazienti non resteranno senza enzimi però quello che voglio sottolineare è che quello che vediamo oggi è probabilmente il risultato di una prescrizione inappropriata negli anni precedenti quindi è importante che questo tipo di terapia così decisiva per il paziente venga stabilita e monitorata da uno specialista delle patologie del pancreas e ovviamente come tutte le patologie croniche dobbiamo anche considerare questo aspetto della vita dei pazienti cioè la qualità di vita purtroppo spesso ne viene inficiata come dicevo ci può essere appunto insufficienza endocrina e quindi diabete mellito la cui incidenza aumenta all'aumentare degli anni di malattia e poi abbiamo le lesioni cistiche che tutti conosciamo e che è ormai molto frequente riscontrare casualmente a causa della potenza della performance delle tecniche diagnostiche e per il loro rischio di degenerazione neoplastica seppur minimo ci impongono un qualche tipo di sorveglianza sappiamo che è fondamentale andare a riconoscere quelle che sono le worrisome features e gli iristigmata con le giuste tecniche di immagine come dicevo prima ma ci ha spiegato bene Marchegiani Giovanni che abbiamo oggi il piacere e l'onore di avere qui con noi a Furli in questo recentissimo studio che le cose forse stanno un pochino cambiando ve lo spiegherà sicuramente lui molto meglio di me voglio solo dirvi però che ci sono dei particolari casi delle particolari categorie di pazienti in cui è ragionevole quantomeno considerare la discontinuità della sorveglianza però facciamo attenzione non deve essere una regola matematica più o meno di 75 anni più o meno di 65 va sempre tutto molto ragionato perché bisogna ovviamente fare attenzione prima di dire a un paziente stop con la sorveglianza e non deve essere ovviamente una responsabilità del medico di base e parliamo brevemente perché l'ha già fatto molto bene Silvia Carrara dell'adenocarcinoma del pancreas sappiamo che la quarta causa di tumore è la quarta causa di morte per tumore e purtroppo scalerà la classifica negli anni successivi come sappiamo spesso ne veniamo a conoscenza quando la malattia è ormai avanzata e in termini di sopravvivenza a 5 anni siamo per la prima volta con il numero a due cifre ma purtroppo parliamo di percentuali ancora molto basse e anche su questo è stato fatto tanto in letteratura sulla presa in carico in termini di centralizzazione soprattutto in ambito chirurgico è stato ben dimostrato infatti che la mortalità aumenta nei centri a basso volume e viceversa ovviamente ma come ha detto appunto Silvia è soltanto una piccola fetta quella dei pazienti che riesce ad andare a chirurgia per cui lo stesso concetto di centralizzazione e di availability di expertise lo dobbiamo ovviamente traslare dalla chirurgia anche all'aspetto diagnostico di palliazione e di terapia e tutto questo si deve in realtà estendere non solo alla patologia oncologica ma anche alla patologia benigna perché anche qui si sono visti gli effetti benefici di un referral care al centro ovviamente ci sono i pazienti ma attorno ai pazienti ci sono tantissime figure professionali altamente specializzate che possono avere un ruolo da protagonista in qualunque momento della storia clinica del paziente e l'impatto di un team multidisciplinare che discute insieme le problematiche dei vari pazienti può essere cruciale può addirittura a volte anche cambiare la storia naturale di quella malattia se parliamo di tumore del pancreas ovviamente non possiamo non parlare di prevenzione che sotto diversi aspetti può essere primaria secondaria o terziaria l'ha già detto molto bene Silvia se consigliamo a un paziente di smettere di fumare il suo rischio di incidenza di tumore del pancreas può abbassarsi fino al 30% e in termini di prevenzione secondaria chiaramente tanto stiamo facendo insieme ad AISP per portare avanti questo programma di sorveglianza per lo screening volto appunto al momento solo ad individui ad alto rischio quindi quelli considerati avere un rischio superiore al 5% rispetto all'1,3 della popolazione generale e questo è il registro appunto di cui vi parlava la Carrara partito nel 2015 da solo centri ad alto volume e poi esteso a tutti gli altri centri italiani questi criteri di inclusione li abbiamo già visti per semplicità vi dico che esiste anche un'app scaricabile da qualunque telefono in cui basta rispondere ad alcune semplicissime domande e si può già avere la risposta se sia includibile in questo protocollo di sorveglianza oppure no vado avanti rapidamente su questi studi di Paella perché appunto li abbiamo già visti molto bene e ne abbiamo sottolineato l'importanza questa è la schermata che abbiamo quando entriamo per inserire quando entriamo nel programma di sorveglianza per inserire le nostre pazienti e le nostre CRF a Forlice Sena al momento abbiamo iniziato a includere soggetti da circa un anno e mezzo e ne abbiamo inclusi 24 sembra un numero molto piccolo in realtà vi assicuro non è così perché non è semplice trovare questi soggetti che rispecchino tutti i criteri di inclusione e vorrei rapidamente presentarvi questa sarvi che ho avuto l'opportunità di portare avanti grazie ad AISP grazie a Silvia Carrara sullo stato degli ambulatori di endoscopia delle malattie biliopancreatiche in Italia abbiamo avuto questa idea di fare una serie di domande sull'attività ambulatoriale endoscopica e chirurgica e porre questo questionario a tutte le società scientifiche italiane inclusi 144 partecipanti affrenti da più di 100 ospedali come vedete quasi tutte le regioni coinvolte prevalentemente medici dell'area clinica prevalentemente gastroenterologi e quello che è venuto fuori da queste domande è che nella metà dei casi degli ospedali partecipanti esiste un ambulatorio dedicato alle malattie pancreatiche in un terzo dei casi esiste un canale di contatto facilitato che sia mail o telefono tra il medico e il paziente solo nella metà dei casi esiste negli ospedali il team multidisciplinare e solo in un terzo dei casi vengono condivise le problematiche sia benigne che maligne questo per darvi solo una vaga idea di quello che facciamo noi quotidianamente qui a Forlicesena quindi nel nostro territorio questa è la pagina del sito aziendale e facciamo ovviamente attività di reparto di ambulatorio dedicato specialistico di endoscopia digestiva e ambulatorio di ecografia per quanto riguarda il paziente considerate che facciamo circa 1200 ricoveri l'anno e di questi il 18% sono patologie pancreatiche l'ambulatorio dedicato al momento si svolge una volta a settimana solo a Forlì e seguiamo circa 300 pazienti prevalentemente con lesioni cistiche ma anche esiti di pancreatite acuta pancreatite cronica o patologia biliare in endoscopia digestiva abbiamo tre sale a Forlì tre sale a Cesena ed eseguiamo sia ecoendoscopia diagnostica e terapeutica sia RCP ovviamente per patologia sia benigna che maligna e eseguiamo circa 1000 ecoendoscopie l'anno e 400 RCP l'anno l'ambulatorio di ecografia è un'altra cosa a cui teniamo tantissimo ovviamente abbiamo ecografi altamente performanti che non possono mancare ad oggi nel 2023 in un ambulatorio di gastroenterologia o in un reparto ed eseguiamo circa 2600 ecografie l'anno abbiamo sottolineato più volte l'importanza del meeting multidisciplinare questo in Aus Romagna è un argomento molto sentito meeting dei tumori rari viene svolto una volta a settimana quindi prevalentemente si parla di tumori neuroendocrini il meeting biliopancreatico una volta a settimana tutti i venerdì questo solo per dire che questo argomento è fondamentale che colga la sensibilità dei piani alti della politica della politica sanitaria questo è un comunicato che è stato pubblicato lo scorso anno per i modelli di presa in carico appunto sul tumore del pancreas le pancreas unit sono ormai delle realtà concrete in alcune regioni speriamo lo diventino a breve anche qui è importante che la politica sanitaria si prenda cura di questo vi lascio quindi dicendo che appunto è necessario il referral care per prevenire e minimizzare la quantità di procedure diagnostiche terapeutiche non necessarie per cercare di prevenire le complicanze e avere un ruolo cruciale nella storia naturale della malattia di questi pazienti grazie 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 dottoressa siamo arrivati in fondo alla sessione adesso se ci sono qualche domanda per la dottoressa o per i primi colleghi che hanno parlato un po' del problema del biologico apriamo una discussione tra quattro domande 5-6 minuti e poi passiamo alla sessione successiva prego buongiorno a tutti io sono Cecilia Binde e lavoro nella unità di gastroenterologia degli ospedali di Forlie Cesena purtroppo è andato via il professor Barbara e forse a questo punto rivolgerai la domanda al dottor Magrini visto il ruolo che riveste in azienda e che è stato ben diciamo si evince bene dalla relazione del professore come oggi creare evidenza sull'utilizzo dei probiotici nelle patologie è estremamente difficile e oggi è sempre più cogente trovare un modo per creare evidenze dell'uso dei probiotici anche nelle patologie oncologiche lei crede quale strada dobbiamo cominciare a intraprendere in questo setting visto che comunque le competenze richieste sono spesso di diverse figure e qual è il futuro che vede per provare a fare evidenza in questo campo che è estremamente difficile ringrazio della fiducia ma mi terrò la parte più rigorosamente metodologica che forse mi può aspettare io credo che per i molti campi che sono stati evidenziati proprio dal professor Barbara credo che l'aspettativa che tutti abbiamo o parlo anche come ex regolatore o attuale estensore di linee guida io credo che le evidenze debbano essere le più chiare e rigorose possibili e quindi che questi farmaci attualmente integratori per lo più siano studiati in studi randomizzati non necessariamente in cieco mi spingo anche lì però dato che molti degli analisi o dei controlli si possono poi fare in cieco quindi potrebbero essere potrebbero essere comunque rigorosamente condotti se portiamo i benefici a una a un assessment anonimo quindi se si è in grado di avere una buona tipizzazione dei pazienti e per i quali possiamo dimostrare una alta efficacia questa è la scommessa o questi probiotici diventano dei farmaci molto efficaci o non usciamo dall'attuale incertezza per cui a volte si pensa che ci sono sottotipi di pazienti che potrebbero giovarsene ma le evidenze non sono sufficientemente chiare per dirlo e quindi è un ambito molto promettente come ricerca le conferme devono venire dagli studi più rigorosi a mio avviso non ci sono scorciatoi un'ultima domanda oggi che forse rivolgo a Lisa Paganelli o comunque al dottore le volevo chiedere oggi si parla molto di problematica di equità di accesso alle cure e credo che ancora più stringente oggi sia un'equità di accesso ad una sana alimentazione perché tutte ovviamente le proposte che arrivano per avere una corretta alimentazione una buona qualità di alimentazione oggi ancora diciamo a dei costi probabilmente di produzione estremamente elevati e che si ripercuotano ad oggi tutto sul cittadino stesso quindi mi chiedo se il futuro pensa che diffondere una cultura può anche rendere più accessibile questa forma di come dire accesso alla prevenzione o siamo ancora lontani o se si può se si possono provare a costruire dei percorsi in questo senso grazie beh io forse la sorprenderò perché in realtà quello di cui di cui ho parlato è una pratica ormai non diffusa ma è la pratica per fare agricoltura e contrariamente a quello che si può pensare oggi fare un'agricoltura con meno chimica non costa assolutamente di più che fare un'agricoltura convenzionale vecchia maniera ma i motivi in realtà li ho anche detti perché se tu fai una chimica che comunque non puoi fare come prima perché non hai la disponibilità fai una chimica che non funziona è un prodotto che ha anche meno mercato quando alla fine può darsi che spendi anche qualcosa di più ma il tuo prodotto in qualche maniera ha una valorizzazione tale che comunque trova la sua strada poi lascio la parola a Lisa per quanto riguarda il suo campo non c'è beh allora quindi ecco posso dire che questa è una cosa che avrei dovuto dire effettivamente oggi fare agricoltura con meno chimica non è assolutamente una cosa che costa di più o comunque in maniera non tanto di più ecco è assolutamente competitiva buon pomeriggio Tommaso Giuliani della chirurgia Forlì una domanda rapida sulla centralizzazione per la dottoressa Coluccio per noi chirurghi è un'evidenza chiara il fatto che la centralizzazione migliora gli outcome e quindi è anche l'obiettivo di tutto il programma di centralizzazione la mia domanda rapida era se questa cosa vale anche per la componente gastroenterologica ed endoscopica cioè se c'è evidenza che centralizzare pazienti pancreatici vi migliora gli outcome e la seconda domanda è se nella nostra esperienza ma soprattutto nella vostra come gastroenterologi lo storico da quando realmente abbiamo cominciato a centralizzare ha portato un miglioramento della practice da un punto di vista vostro insomma grazie per la domanda e per quanto riguarda l'evidenza scientifica purtroppo la letteratura non è così solida come lo è per voi abbiamo sicuramente come ho fatto vedere degli studi che ci dicono che appunto ad esempio per la pancreatite cronica centralizzare ha senso perché migliora l'outcome meno uso di antibiotici eccetera e le linee guida stesse dell'IAP lo consigliano negli state di mandare nei centri di riferimento per quanto riguarda la pratica clinica nel nostro piccolo possiamo sicuramente dire che sì ha senso perché vediamo spesso spessissimo pazienti che magari si riferiscono poi a noi da altre regioni hanno già fatto degli esami ed è sempre più difficile ristudiare da capo un caso dove già altri magari hanno fatto qualcosa quindi sì direi che ha senso è chiaro che è tutto molto complesso e chi più di me ha esperienza in termini organizzativi è difficile decidere in Emilia Romagna solo due centri possono fare coindoscopie e RCP questo ovviamente non è fattibile non è giusto è giusto però avere magari dei modelli di riferimento tipo Ab and Spock certo grazie ci sono altre domande? no allora se non ci sono chiudiamo la sessione ringrazio anche il dottor Magrini che è stato con me non facciamo non facciamo la pausa che andiamo avanti anche perché abbiamo un po' limato il tempo che avevamo e chiamo qui i moderatori della prossima sessione che sono il professor Giovanni Martinelli che è il direttore scientifico dell'Ix di Meldola il dottor Stefano Tamberi che è il direttore dell'oncologia di Ravenna e mi permetto di dire che in questi anni l'asse con l'area soprattutto di Faenza e Ravenna in termini di gastroenterologia radiologia oncologia della dottor Tamberi è stata assolutamente efficace e abbiamo creato un gruppo insieme ovviamente ai colleghi dell'Ix di Meldola e di Forlì di professionisti che si dedicano a cercare di trattare al meglio questi pazienti e poi la dottoressa Federica Matteucci che è invece il direttore della medicina nucleare anche qui Forlì Cesena quindi sempre in EIRS prego ma innanzitutto inizio io con i ringraziamenti di questa bellissima iniziativa del nostro diciamo chiaro maestro professore Ercolani e non solo di 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 Giorgio ma anche come al solito di Carlo e Fabri di Luca Farsinetti nostro responsabile del dipartimento dell'Istituto Romagnolo per la cura dei tumori dedicato al tanto mancato e al tanto compianto di Nomadori io ringrazio di questa opportunità perché penso che se c'è una patologia che in questo momento ci dà maggiormente sfida a livello di istituto ma direi a livello di comprensione cancer care e research netto della Romagna che a cui teniamo molto sia proprio la patologia pancreatica volevo ricordare a tutti voi che il più grande finanziamento di cui abbiamo disposizione in questo momento si chiama Mission Cancer la missione cancer in qualche modo dell'Europa è il più grande finanziamento 2023-2030 che abbiamo mai visto in Europa con l'obiettivo di salvare almeno un 3% di vite umane in più nel 2030 io credo che questo sia qualcosa che possiamo raggiungere lo possiamo raggiungere se mi permettete un minuto di presentazione perché sono arrivati gli strumenti anche diagnostici in particolar modo gli strumenti della genomica all'est di Meldula in questo momento stiamo facendo qualcosa come 166 nuovi casi al mese di profilazione genetica almeno 150 geni per vedere la predisposizione ma anche il rapporto fra gene mutato e driver della cancerogenesi e questo lo stanno facendo per tutta la Romagna quindi lo stanno facendo per tutti quanti noi per dare ai nostri malati un chiaro profilo ed emerge secondo me una cosa molto importante che è il cancro del pancreas 9 volte su 10 ha una mutazione driver che si chiama RAS e la mutazione di RAS sappiamo perfettamente che è una mutazione che in questo momento così come nel cancro del colo metastatico così come nel cancro ovarico in una parte del tumore del polmone è una mutazione che conferisce totale resistenza chemioterapica ma la seconda cosa più importante e questo spiega perché stiamo fallendo gli approcci terapeutici RAS cambia completamente la benzina con cui funziona il cancro non più zucchero che noi se lo riconosciamo dalla PET lo riconosciamo da tante cose ma vediamo che a quel punto il cancro utilizza i grassi i lipidi e questo cambio guardate che è molto importante perché crea il microambiente tumorale del cancro del pancreas totalmente refrattare all'immunoterapia e noi abbiamo perso diciamo in qualche modo i due strumenti principali non c'è più chemioterapia che funziona non c'è più immunoterapia che funziona io credo che questo deve essere un qualcosa che adesso che abbiamo gli strumenti noi insieme per poterlo curare con una chirurgia straordinariamente efficace qui a Forlì ma direi anche e in qualche modo a servizio di tutta la Romagna con un istituto di ricovero cura che ha questo ruolo nazionale perché c'è stato in qualche modo data la missione di promuovere iniziative di ricerca non company sponsor cioè in qualche modo dell'istituto siano delle opportunità che non possiamo farci mancare a tutti quanti io ho l'onore e il privilegio di moderare con i colleghi che stanno facendo innovazione nel campo del tumore del gastroenterico ma soprattutto anche mi riferisco alla possibilità di fare nuovi radiotraccianti siamo riusciti a Meldola ad ottenere grazie alla complicità la capacità della cittadinanza di Meldola di avere per i prossimi anni un nuovo ciclotrone che significa poter mettere pochissima radioattività attaccata a delle molecole per andare a colpire e quindi sviluppare una parte di radiotraccianti ma soprattutto di radioterapeutici che nel futuro ci daranno io credo molto grande soddisfazione ora queste se lo chiamavano ciclotrino era più facile andare a parlare con la cittadinanza e il comune di Meldola perché il ciclotrone uno si immagina che chissà cosa ci sia il ciclotrone è una piccolissima diciamo capacità di coniugare i radioconiugati tuttavia questa possibilità di nuovo si mette a disposizione dell'intera Romagna e io credo che il ruolo anche che in qualche modo la dottoressa Matteucci svolge all'interno proprio a scavallo diciamo così fra l'Asia Romagna e l'istituto di ricovero cura carattere scientifico romagnolo dedicato a dinamatori sia un'opportunità che è un'opportunità di tutta questa meravigliosa zona regione che in qualche modo trae vantaggio dal fatto che ci sia una così grande interazione fra i professionisti che vogliono curare il cancro io credo che questo sia l'ingresso in qualche modo delle relazioni che andremo a sentire le lascio la parola al dottor Tamberi e poi la dottoressa Matteucci io un saluto poi direi di iniziare subito i lavori anche perché penso che ci sia dottor Michele Reni collegato un amico quindi lascio poi la parola a Federica per l'introduzione del primo relatore ok allora grazie dell'invito grazie a Frassinetti Ercolani e Fabri grazie a quello che ha detto il professor Martinelli visto che siamo un po' in ritardo direi di partire con la relazione del professor Reni dovrebbe essere il collegamento salve eccolo buonasera ciao Michele allora la relazione il titolo della relazione è tumore del pancreas e qualità di vita cosa cambia con le nuove possibilità terapeutiche io lascio la parola subito al al relatore grazie grazie a tutti voi mi scuso per non essere presente purtroppo sono impegnato contemporaneamente in un altro congresso ma ci tenevo appunto a essere in ogni caso tra voi proprio per il rapporto di amicizia ancora prima che di stima con tutti i colleghi sia con gli organizzatori sia appunto con gli altri medici che lavorano all'IRST il tema che mi è stato affidato è un tema complesso ho cercato di non fare una relazione troppo tecnica ma semplicemente di dare delle informazioni su cui poi magari lasciare anche uno spazio per un dibattito che non può che essere interessante perché andiamo a toccare un tema che è estremamente delicato cioè quello che è il valore dei risultati che noi possiamo ottenere con il nostro approccio ai pazienti che hanno questa malattia quindi in effetti il titolo è un po' da quegli amici che vogliono come dire fare una specie di scherzo perché mi dice cosa cambia con le nuove possibilità terapeutiche dal punto di vista della qualità della vita nel tumore del pancreas e dato che in effetti di nuove possibilità terapeutiche purtroppo ce ne abbiamo nel tumore del pancreas poche o nulle di fatto la cosa non è semplice di per sé ma in realtà non è semplice nemmeno per il fatto che la qualità della vita è un terreno un po' scivoloso è un po' difficile da definire è un po' difficile da capire di che cosa stiamo parlando cioè tutti ne parliamo ma probabilmente è difficile sapere di che cosa si tratta in effetti si è iniziato a parlare della qualità della vita abbastanza recentemente più o meno da una trentina d'anni e mentre in passato fondamentalmente quando si parlava di cancro si parlava fondamentalmente di quanto le persone vivevano quali erano gli effetti collaterali poi piano piano fortunatamente sono entrati appunto nel campo della discussione anche altri altri parametri e uno di questi è proprio la qualità della vita che viene definita dall'organizzazione mondiale della sanità in questo modo cioè la percezione individuale della propria posizione nella vita nel contesto culturale del sistema di valori in cui il soggetto vive in relazione ai propri obiettivi aspettative e preoccupazioni quindi vedete che è una cosa che varia molto da una persona all'altra anzi è proprio così individuale o personalizzata se vogliamo usare questo termine abusato e sempre l'organizzazione mondiale della sanità ha suddiviso la qualità della vita in questi sei principali domini cioè uno è la salute fisica quindi l'energia la fatica dolore disagio sonno e riposo ma naturalmente c'è anche una salute psicologica a cui spessissimo non prestiamo attenzione quantomeno noi dal punto di vista medico e questo ha a che fare con l'immagine l'aspetto del corpo i sentimenti l'autostima le capacità cognitive poi un altro fattore estremamente rilevante soprattutto nella nostra società moderna è certamente il livello di indipendenza quindi quanto uno nelle proprie attività quotidiane sia in grado di spostarsi di dipendere da altri di dipendere da farmaci di dipendere da usidi medici sia in grado di essere autonomo anche dal punto di vista lavorativo o comunque delle sue attività naturalmente entrano in campo anche le relazioni sociali quindi quelle personali il supporto sociale e anche ovviamente interattività nella sfera sessuale poi ci sono delle considerazioni di tipo ambientale quindi le risorse finanziarie la sicurezza fisica la sicurezza sociale quali sono i servizi sanitari e sociali disponibili come funzionano le cose nell'ambiente domestico se una persona ha ancora possibilità di svoggere i propri hobby di apprendere di come dire stare in un ambiente fisico adeguato e poi anche i valori personali le credenze inclusive degli aspetti religiosi di spiritualità e delle credenze personali questo è quanto ci dice l'organizzazione mondiale della sanità io ho trovato questa bella immagine che riassume un po' questo tipo di approccio insomma di fatto traducendolo se vogliamo in immagini per esempio la qualità della vita qui riporto delle foto che i miei pazienti hanno autorizzato naturalmente a far vedere di quelle cose che nella mia attività quotidiana dovete sapere che io mi occupo esclusivamente di tumori del pancreas mi mettono di fronte a questa domanda spesso cioè se vale la pena fare delle terapie che cosa ci portiamo a casa e se i pazienti sono contenti di quello che gli facciamo qui per esempio abbiamo questo signore che festeggia i suoi 80 anni con tutta la famiglia una signora che diventa bisnonna un'altra nostra paziente che fa un concerto di piano un altro che fa gare di sci chi sta più come dire più a lungo con i propri parenti quindi si gode dell'affetto dei figli chi realizza un sogno come questo signore sulla sinistra che aveva era un pianista jazz e aveva sempre desiderato di poter andare in Giappone a fare un concerto e questo è stato reso possibile dal trattamento che lui stava facendo una volta che si era ammalato vedere sposare un figlio oppure fare una passeggiata in montagna come abbiamo organizzato con diversi pazienti tutti insieme è una giornata purtroppo un po' nuvolosa insomma quindi alla fine la qualità della vita può essere un po' quello con cui noi riempiamo le nostre giornate il fatto di poter assaporare meglio determinati momenti e perché la dobbiamo misurare? Perché di fatto ci aiuta a capire quali sono i bisogni insoddisfatti delle persone malate e questo ha un maggiore peso nella patologia pancreatica e per di più può essere considerato anche un indicatore di quali sono i risultati degli interventi sanitari in senso lato quindi possiamo considerare dalla chirurgia al trattamenti oncologici trattamenti radioterapici e quant'altro in realtà anche ci sono dei dati che ci dicono che c'è una correlazione tra la qualità della vita e la durata della vita e la possibilità di avere più o meno spesso degli effetti collaterali tra l'altro la qualità della vita è una misura che aiuta anche a informare le politiche sanitarie e quindi a orientarle se vogliamo prestare attenzione a questo aspetto nonché a fare un attento monitoraggio dei reali progressi nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi sanitari che come dicevamo non si riducono non sono legati solamente al contare il numero dei giorni o delle ore della vita di una persona ma che appunto hanno tutta un'altra serie di valenze mi scuso per la diapositiva in inglese però in realtà questo che stiamo discutendo ha molto a che fare con questo concetto dell'empowerment cioè del rendere il paziente al centro di tutto il processo di cura cioè fin tanto che noi misuriamo i risultati dei nostri trattamenti soltanto contando i giorni il paziente è semplicemente un soggetto passivo in realtà il fatto di entrare nel merito di tutta questa se vogliamo filosofia di vita sul fatto di cercare di dare un valore al tempo che noi viviamo e quindi di guardare l'aspetto della qualità fa sì che il paziente debba necessariamente avere una voce in capitolo e quindi va nell'ottica di dargli tra virgolette il potere nelle mani perché lui sia al centro delle decisioni che lo riguardano quindi questo ha a che fare con la possibilità che il paziente sia parte attiva che possa condividere con altre persone o con altre associazioni quello che sta vivendo che possa essere messo nelle condizioni di imparare quindi che gli vengano dati degli strumenti che gli permettano di capire meglio la situazione in cui si trova e che cosa gli stiamo proponendo di fare e quindi degli strumenti che gli permettano di cercare e di trovare delle informazioni che lo aiutino per il suo livello personale di competenze e di comprensione a essere parte attiva nel processo terapeutico e quindi di comprendere quello che gli viene proposto ed eventualmente anche naturalmente la libertà di poter consultare altri specialisti che si occupano di quella patologia per avere poi un quadro più completo e quindi poi poter agire in maniera consapevole e decidere in maniera consapevole il problema è come la misuriamo questa qualità della vita perché in effetti ci sono alcune diciamo misure che sono specifiche e sono diverse da una patologia all'altra e quindi sono certamente utili ma hanno ovviamente anche tutta una serie di limiti per esempio uno degli strumenti più utilizzati è questa sigla QLQC30 che sarebbe la qualità della vita con un questionario che comprende 30 domande alle quali se ne aggiungono in questo caso altre 26 che sono specifiche per la patologia pancreatica per cui la sigla PAN26 qui vi riporto l'esempio appunto di uno dei trattamenti diciamo così nuovi che di cui si è discusso in questi ultimi anni in particolare dell'utilizzo di una combinazione a due farmaci che è il NAB paclitaxel associato alla gencitabina rispetto alla sola gencitabina nei pazienti che sono stati sottoposti a un intervento chirurgico per un tumore del pancreas quindi come trattamento post-operatorio da queste curve quella blu si riferisce al trattamento con un singolo farmaco quella gialla all'associazione dei due quello che si può notare è che nel tempo in realtà la qualità della vita è sovrapponibile tra chi abbia ricevuto l'uno o l'altro trattamento mentre nella fase attiva del trattamento che è questa come vedete fine terapia su questa riga tratteggiata a 24 settimane la situazione della qualità della vita era un poco peggiore per chi aveva ricevuto due farmaci in virtù degli effetti collaterali in realtà la cosa non è così semplice qui faccio vedere sempre per lo stesso studio che le cose sono un po' più complicate nel senso che si se voi seguite i puntini della linea rossa o i puntini della linea blu noi vedremo che effettivamente qualche differenza c'è e cioè che la qualità della vita scusate questo non è lo stesso studio ma è uno studio di terapia di mantenimento nei pazienti che hanno una mutazione di BRCA quando hanno ricevuto il placebo che sono i puntini rossi e le linee rosse o rispetto a quando hanno ricevuto l'olaparib cioè il prodotto attivo che sono i puntini blu in effetti qualche differenza ci può anche essere ma non ha una rilevanza clinica secondo le definizioni riportate a livello internazionale perché non supera le soglie che vengono considerate rilevanti dal punto di vista della valutazione di questo aspetto qual è il problema di questo sistema di misurazione QLQ è che se noi guardiamo questo è un altro studio che ha utilizzato tre farmaci chemioterapici dello schema Folfirinox rispetto alla sulla gencitabina sempre nei pazienti sottoposti a chirurgia che se voi andate a vedere qua sotto quanti pazienti hanno risposto al questionario via via nel tempo vedete che man mano che ci spostiamo mese 1 mese 2 mese 4 mese 6 il numero di pazienti che inizialmente era di 170 si è dimezzato per esempio al mese 6 nel gruppo dei pazienti trattati con tre farmaci e al mese 6 si è ridotto a 38 su 171 quindi il 25% circa di quelli che avevano ricevuto un farmaco solo perché di fatto perdiamo come dire per strada i pazienti che per un motivo o per l'altro non rispondono più al questionario la stessa cosa si è osservata nello studio della terapia di mantenimento dei pazienti BRCA mutati di cui vi parlavo prima perché voi vedete che per esempio alla settimana 24 ci sono circa la metà dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento attivo che ancora stanno rispondendo al questionario e di là sono solo 13 su 60 cioè il 25% allora questo tipo di analisi non tiene conto del rischio competitivo ovvero quando il paziente ha una ripresa della malattia o un peggioramento della malattia smette di rispondere al questionario della qualità della vita e quindi per quel motivo lì noi abbiamo dei numeri che vanno abbassandosi in realtà sarebbe proprio interessante in questi pazienti continuare a controllare come è la loro qualità della vita perché così facendo si escludono quelli in cui purtroppo la qualità della vita a causa della recidiva della malattia è peggiorata e quindi paradossalmente si va a sottostimare il vantaggio che il farmaco può provocare infatti qui in questo specifico esempio l'AIFA è in corsa in questo gravissimo errore di valutazione non tenendo conto di questo aspetto e quindi non ha autorizzato la rimborsabilità di questo farmaco innovativo che è uno di quelli che in realtà hanno avuto il maggior impatto sul controllo della malattia negli ultimi 25 anni nel tumore del pancreas proprio perché è stato utilizzato questo strumento che è uno strumento comunque con dei gravi limiti metodologici un altro modo di vedere la qualità della vita è sempre questo lo stesso studio è quello di vedere quanto tempo passa prima che la qualità della vita tenda a peggiorare e se voi guardate la curva blu che è quella del trattamento attivo si vede chiaramente che c'è una differenza a favore del trattamento attivo rispetto a placebo che è la curva rossa fino a un certo punto qui la differenza dopo 20 mesi non c'è più ma di fatto non ci sono nemmeno più pazienti del braccio che ha ricevuto placebo che rispondono al questionario perché purtroppo tutti nel frattempo hanno avuto una recidiva della malattia e quindi a seconda del punto della curva dove uno va ad osservare si renderà conto che c'è o non c'è un vantaggio ci sono degli altri metodi per misurare la qualità della vita questo per esempio che si chiama Q-Twist sarebbe il tempo che passa senza che il paziente abbia o una recidiva o una tossicità legata al trattamento che ha fatto e se si va a vedere per esempio sempre quello stesso studio da questo punto di vista si nota adesso non entro nel dettaglio tecnico però che il trattamento attivo che in questo caso comprendeva i due farmaci chemioterapici rispetto a uno in realtà il vantaggio lo porta perché il paziente trascorre più tempo senza tossicità e senza progressione della malattia e quindi presumibilmente una migliore qualità della vita oltre che una vita più lunga esiste anche un altro concetto che è stato introdotto recentemente che è quello della time toxicity cioè del tempo che viene consumato dal paziente sprecato se vogliamo dirla in altro modo dal paziente seguendo le proprie attività sanitarie cioè andando in ospedale facendo prelievi del sangue andando in farmacia seguendo le procedure burocratiche eccetera perché naturalmente se noi otteniamo un prolungamento della quantità della vita ma tutta questa quantità aggiuntiva viene trascorsa stando in ospedale attaccati a una flebo o stando in un letto o stando in coda per aspettare il proprio turno evidentemente non stiamo facendo un ottimo servizio come vedete la questione è molto articolata e complessa e arrivo alle conclusioni perché in effetti la questione della qualità della vita si può vedere da diverse prospettive e sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensate voi il tumore del pancreas è un tumore diverso dagli altri ed è molto complicato perché come ho cercato di introdurre in questa diapositiva le problematiche legate alla malattia possono essere parecchie e quindi di fatto la vita quotidiana del paziente può essere pesantemente come dire disturbata dalle problematiche legate alla malattia oltre che quelle legate al trattamento ma quelle legate alla malattia tendono a peggiorare nel tempo se noi non abbiamo dei trattamenti efficaci e quelle legate invece al trattamento tendono a essere transitorie e in ultima analisi e questa è l'ultima diapositiva di fatto il paziente che ha un tumore del pancreas ha bisogno di avere intorno a sé un insieme di specialisti che possano aiutarlo appunto a gestire tutti gli aspetti della diapositiva precedente laddove un singolo specialista magari l'oncologo piuttosto che il chirurgo è assolutamente inadeguato e inefficace per poter superire tutti i bisogni che il paziente ha per farlo vivere meglio e tenete conto che a volte questo team ha un impatto molto maggiore sulla quantità e sulla qualità della vita di quello che noi possiamo ottenere con i trattamenti stessi e quindi semmai la cosa su cui dobbiamo investire è in questo momento più questa o anche questa rispetto ai farmaci nuovi perché un utilizzo migliore di quello che noi abbiamo con una buona collegamento e collaborazione tra i vari specialisti sarà quello che otterrà più facilmente l'obiettivo che perseguiamo e ho finito grazie grazie Michele e siccome sei collegato e sei anche in un altro contemporaneo convegno facciamo adesso le domande quindi c'è una domanda del dottor Pacilio buonasera sono il dottor Pacilio della chirurgia di Forlì io volevo chiederle lei pensa che la presa in carico psicologica in pazienti affetti a tumore adenocarcinoma del pancreas debba essere qualcosa che avviene di default o semplicemente al bisogno e nella sua esperienza la presa in carico psicologica migliora l'aderenza ai trattamenti e migliora la qualità della vita grazie grazie della domanda io penso che debba essere proposta di default poi naturalmente ciascun singolo soggetto deciderà ciascun singolo paziente deciderà se ne vuole usufruire o meno non possiamo imporre questo tipo di cosa ci sono diverse segnalazioni che dicono che la compliance quindi l'aderenza ai trattamenti sia migliore nelle persone che riescono ad avere un equilibrio da questo punto di vista semplicemente quello è un bisogno quindi noi dobbiamo essere pronti a soddisfare il bisogno nel momento in cui ci sia una richiesta che non necessariamente significa che tutti i pazienti ne hanno il bisogno lo stesso vale per un approccio nutrizionale c'è il paziente che non ha disturbi nutrizionali e c'è il paziente che invece ce li ha di fatto noi dobbiamo prestare attenzione a questo aspetto e se c'è un bisogno va soddisfatto quindi dobbiamo essere organizzati anche in termini di sistema sanitario per poter offrire questa opportunità senza tempi d'attesa senza costi aggiuntivi eccetera bene altre domande ne ho io Michele uno da farti mi chiedo il nuovo decreto so che a volte le leggi arrivano tardi ma il nuovo decreto che mette a disposizione il finanziamento la settimana scorsa due settimane fa è per il sequencing cioè il sequenziamento NGS dell'epatobiglio pancreatico in maniera più estesa anche se vogliamo l'epatobiglio pancreatico secondo te cambierà molto l'approccio nel breve termine almeno iniziale delle terapie mirate in un organo che in un cancro che finora ha avuto diciamo una componente così diciamo di ricerca meno meno efficace magari di quello che abbiamo visto nel cancro del polmone e quello che abbiamo visto in altri tumori cosa ne pensi tu di questa capacità di poter diagnosticare anche nel molecolare nella diagnosi molecolare i nostri malati bellissima domanda questa direi io non so dare una risposta sul breve termine ovviamente me lo auguro che possa dare dei cambiamenti nel breve termine in questo momento lo scenario è abbastanza triste perché in effetti le molecole diciamo i bersagli terapeutici sono estremamente limitati però riaccodandomi a quanto dicevi nell'introduzione a questa sessione in effetti noi guardiamo molto con speranza il capparasse il capparasse è mutato quasi sempre diciamo nel tumore del pancreas e per fortuna sulla scorta di quello che succede per esempio nel tumore del polmone stanno appunto emergendo farmaci contro le varie varianti del capparasse G12C D e W eccetera quindi noi possiamo sperare che questi farmaci possano sfondare anche nel caso del pancreas e perciò avere già di default alla base alla diagnosi un profilo molecolare naturalmente potrebbe metterci poi nelle condizioni di usufruire più rapidamente dei progressi terapeutici certamente questo ci darà un vantaggio dal punto di vista delle capacità di studiare un po' di più questa patologia dove in effetti in passato il materiale biologico era pressoché quasi inesistente e le tecniche moderne molto più sofisticate ci potranno dare un'accelerata nella conoscenza della malattia e quindi possibilmente nella sua gestione posso fare un commento Michele così giusto perché poi passiamo credo che la sfida di questo momento sia mettere insieme questi due aspetti noi abbiamo bisogno di avere dei servizi organizzati che prendano in carico il paziente nella sua globalità dove è sottolineato con l'ultima diapositiva con percorsi strutturati di tipo nutrizionale psicologico il più possibile proposti ma non on demanda secondo la mia opinione cioè il paziente entra in un alveo di servizi di un percorso che dà una possibilità di entrarci non che noi in modo come dire personale decidiamo chi ha bisogno dello psicologo o chi ha bisogno del nutrizionista se non deve esserci qualcosa quindi questo è il primo punto perché questo vuol dire dare quelle risposte che si ricollegano alle immagini delle aspettative dei singoli pazienti i singoli pazienti hanno bisogno di qualità di vita cioè tempo di qualità non tempo e basta e l'altro invece unire a questo la capacità di andare in ambiti di ricerca sempre più sofisticati il pancreas a questo aspetto qui il capa ras ci sono farmaci sempre più legati a non solo alle singole varianti ma fortemente futuri farmaci verso ras panras inibitor che forse nel pancreas e così via quindi da un lato ricerca molto spinta ma al tempo stesso oggi inserita in un alvio di grande presa in carico globale dei pazienti delle loro necessità e dei loro familiari quindi io credo che questa sia l'opera che la principale attività che dovremmo svolgere adesso ecco con quello che abbiamo adesso poi al tempo stesso e di recente introduzione l'AIFA ha chiesto a tutti i centri italiani che hanno studi di fase 1 di fare la piattaforma adesso hanno chiesto noi abbiamo le fasi 1 anche noi a Ravenna come anche all'IRST c'è la richiesta di aderire a una piattaforma comune perché? perché i pazienti se io non ho uno studio e il paziente può essere inviato in un altro centro dove esiste uno studio con un farmaco innovativo possa essere inviato che era sempre quella parte del consult di fare rete anche in accesso alla ricerca che è l'altro aspetto che attualmente stanno facendo appunto la piattaforma e AIFA ha chiesto a tutti noi di essere messi dentro in questa piattaforma credo che queste siano le due sfide possibilità di ricerca ma al tempo stesso dare una risposta concreta ai bisogni mi chiedi ne approfitto del fatto di averti con noi per chiederti una cosa voi siete una grande istituzione un grande IRCCS del nord che fa anche una grande quantità di ricerca importante dal punto di vista soprattutto del cancro del pancreas la mia domanda è questa qui in America l'associazione oggi abbiamo qui molti parenti molti persone che sono state probabilmente anche toccate da questa patologia in America c'è un'organizzazione che sta un po' dilagando diciamo che è Pancana questa associazione che sta raccogliendo una quantità industriale di fondi e sta anticipando le cure in qualche modo anche più innovative cercando di non attendere la seconda linea o la terza linea perché a volte il cancro del pancreas non ci dà il tempo di provare la seconda linea o il farmaco sperimentale quando ormai il cancro sta andando in progressione ora la mia domanda è questa quanto è importante secondo te la presenza delle associazioni nel finanziamento alla ricerca se noi stiamo celebrando in questi giorni anche la giornata dell'AIRC abbiamo celebrato oggi la giornata del cancro del pancreas quanto è importante secondo voi come lo sentite voi a Milano questo fenomeno di supporto alla ricerca diciamo che è di fondamentale l'importanza in un mondo che si sta sempre più muovendo verso la ricerca nelle mani solamente delle aziende farmaceutiche oppure nella ricerca non clinica traslazionale di base finanziata da fondi pubblici quello che manca almeno dal mio punto di vista è la ricerca clinica indipendente che a cui viene resa la vita sempre più difficile e che quindi rischia di andare scomparendo noi abbiamo un indispensabile bisogno di poter collaborare con le associazioni tant'è che stiamo conducendo insieme peraltro all'est di Meldola uno studio che è il primo penso a livello mondiale completamente finanziato dall'associazione dei pazienti e questo fa capire che è dall'alleanza tra diciamo il mondo clinico il mondo dei pazienti dei loro parenti che ci supportano anche in questo modo che noi possiamo sperare di progredire più rapidamente per cui per me è di imprescindibile importanza questo supporto grazie Michele grazie a voi grazie buona serata buona qualche continuazione andiamo avanti lascio la parola a Federica che introduce il prossimo relatore il prossimo relatore è Giovanni Marchegiani che parlerà delle neoplasie cistiche pancreatiche fra boom epidemiologico e sfide diagnostiche terapeutiche prego grazie buon pomeriggio a tutti ormai buonasera e grazie a chi ha organizzato questo bellissimo evento in particolare voglio ringraziare Giorgio Ercolani e Carlo Fabri con i quali da anni c'è una così grande collaborazione io lavoro come chirurgo del pancreas a Padova e ho prima di Padova lavorato tanti anni a Verona nel centro del pancreas appunto dell'Università di Sui di Verona ma mi sono laureato e sono nato e cresciuto a Bologna e quindi quando torno in questi territori mi sento mi sento a casa e anche un po' così per cercare di animare queste appunto ultime fasi di questo bellissimo evento multidisciplinare volevo chiedervi quanti di voi sono medici ok la maggioranza e quanti di voi sono dei medici di medicina generale ok e quindi adesso desumo che gli altri siano specialisti anche un po' per così vedere in che direzione andare con con questo talk che secondo me riprende molte delle tematiche che oggi sono state secondo me rimarcate in modo molto importante tra cui l'importanza di centri di eccellenza come appunto Forlì la centralità di un team e anche per quanto riguarda il tumore del pancreas uno dei temi ricorrenti è quello della diagnosi precoce ebbene con le neoplasie cistiche del pancreas noi questa opportunità ce l'abbiamo il problema è semmai capire di non sbagliare tante cose il timing l'indicazione chirurgica ma anche al follow up quindi proverò nei prossimi dieci minuti a fare una piccola overview sulle cisti del pancreas iniziando da un dato che secondo me se dovete proprio tenere una singola slide di questa presentazione è in realtà il più importante vale a dire che e lo dice il titolo della presentazione sì stiamo vivendo davvero un boom epidemiologico di cisti nel pancreas e quindi anche moltissimi dei libri di testo di cui ho avuto l'opportunità di partecipare sono sbagliati quando nella prima frase della prefazione dicono che si tratta di entità rare non è così disponiamo oggi di dati forti di popolazione che attestano guardate tassi di prevalenza altissimi specie dopo la quinta sesta decade di età questo è un lavoro uscito non più tardi di due settimane fa un lavoro trasversale meglio clinic grandi registri appunto parlavamo prima di fondi pagati da privati che fanno vedere guardate tassi di prevalenza vertiginosi dopo la sesta settima decade di età quindi queste sono entità assolutamente frequenti a volte le definisco una pandemia durante o meglio ormai post pandemia e per capire di che entità parliamo io faccio sempre vedere questo grafico che è molto semplice lo potete fare in qualunque centro alto volume che ha un assist clinic vale a dire mano a mano che ne diagnostichiamo di più vedete nel grafico in rosso lungo gli anni le dimensioni di queste piccole cisti di queste goccioline d'acqua che troviamo nel pancreas sono via via minori arrivando questo lo tengo perché mi servirà dopo nella trattazione a fatidiche soglie pericentimetriche che dobbiamo tenere in considerazione per prendere le decisioni più giuste per i nostri pazienti perché decidere non è affatto facile in questo caso paradossalmente può essere ancora più diciamo così difficile che per il tumore del pancreas davanti a noi abbiamo persone che sono nel 99% dei casi prive di sintomi quindi non si percepiscono nemmeno come malate e per decidere in base alla biologia di queste entità noi siamo completamente in realtà scoperti non conosciamo la biologia di queste entità nella stragrande maggioranza dei casi ma il paziente questo non lo sa e quindi ha anche un peso psicologico estremamente rilevante ci sono dati scientifici che attestano proprio questa spada di Damocle che è sulla testa di queste persone di queste migliaia di persone con tutte le implicazioni le conoscete si va su internet si va sui social da Vanna Marchi in poi sappiamo insomma che è pieno di possibili notizie fallaci per usare così un eufemismo al tempo stesso da chirurgo anche in centri di esperienza anche con le nuove tecniche mini invasive robotiche dobbiamo ricordare il prezzo della chirurgia del pancreas in termini di morbidità e di mortalità assolutamente rilevante ma anche il follow up anche seguire migliaia di persone con una cistia al pancreas ai suoi costi psicologici certamente clinici ma anche in termini di politiche sanitarie al punto che quello che stiamo facendo oggi non è più sostenibile e dobbiamo quindi anche in questo caso essere più bravi come comunità pancreatologica quindi molti problemi diciamo sulla nostra tavola per rendere le cose più semplici il chirurgo parte sempre dalla patologia e questa è la classificazione WCO delle cisti ve la faccio semplice la maggior parte di questa entità ha un potenziale degenerativo quindi si trova in uno stadio diciamo un termine improprio ma chiaro quiescente ma potrebbe evolvere verso uno stadio di malignità assimilabile a quello del tumore del pancreas propriamente detto e il problema è che noi non abbiamo un'etichetta su queste goccioline d'acqua e le decisioni che dobbiamo prendere pensate le dobbiamo fare veramente andando a analizzare in negativo quasi il contenuto di queste cisti e quindi il liquido che c'è all'interno allora è facile relativamente vi faccio vedere qualche caso epidittico che a chi ha un experience sul pancreas fa venire in mente una diagnosi presuntiva grandi masse benigne cisternomi sierosi altre invece nel corpo di una giovane donna con dei setti penso a un mucinoso altre forme sono più caratteristiche dell'età diciamo così giovane adulto pediatrica tumori solidi seropapillari ma la realtà è che nel 99% dei casi vediamo questo dei buchini delle lesioni aspecifiche a cui noi dobbiamo più che dare un nome dobbiamo cercare di dare un corretto trattamento e non è per niente facile però stiamo imparando a farlo vedete orescono anche i meme sulle cisti del pancreas vuol dire che stanno acquisendo diciamo così popolarità e allora sfruttando questa illustrazione vi faccio una rapidissima carrellata con un concetto per ognuno questo è il cisternoma sieroso questo è una entità assolutamente benigna che quindi ci mette di fronte a un problema diciamo opposto di overtreatment non è facile capire che è un cisternoma sieroso perché quando si presenta con queste forme atipiche è assolutamente indistinguibile da un punto di vista radiologico dalle forme mucinose e allora cosa bisogna fare bisogna chiedere aiuto a Carlo e chiedere al nostro endoscopista un qualcosa di tanto semplice quanto fondamentale vale a dire il contenuto di questa cisti di che natura è quindi torniamo al concetto di prima è il fluido all'interno della cisti che mi parla e mi dice di cosa sto parlando e il chirurgo cosa fa col cisternoma sieroso diciamo che impara a stare fermo questo grafico vi fa vedere in un recente lavoro che durante gli anni che sono passati c'è stato effettivamente un trend in calo lo vedete qui in giallo nei cisternomi sierosi che venivano operati però ancora oggi ci sono tassi rilevanti di interventi fatti per lesioni che virtualmente non avrebbero bisogno di essere operate vedete fino al 20% in centri di esperienza in centri alto volume spesso in soggetti più giovani spesso quando le lesioni non erano nel corpo coda per lo più perché non abbiamo chiesto aiuto agli endoscopisti abbiamo fatto un po' la figura faccio vedere una cosa un po' provocatoria è alla shining del chirurgo che insegue forse non si vede ma è un cisternoma sieroso quello che ho messo al posto della povera vittima questo non dobbiamo farlo ok questo va assolutamente evitato passiamo adesso invece alla componente diciamo più controversa del gruppo delle neoplasie cistiche voglio dire neoplasie mucinoproducenti queste hanno invece un potenziale maligno e questo che è il cisternoma mucinoso è tipico della giovane donna del corpo del pancreas e ha una caratteristica struttura con uno stroma ovarico ormonosensibile quindi ci possono essere qui delle implicazioni in chi intraprende uno o più gravidanze perché il cisternoma mucinoso può crescere durante una gravidanza quello che ci deve preoccupare in questo caso è lo dico in maniera un po' da osteria la carne che cresce all'interno quando vedete della ciccia all'interno questo ci deve un po' preoccupare perché è lì che si verifica la degenerazione del cisternoma mucinoso però al tempo stesso quando dobbiamo capire cosa fare le cose sembrerebbero abbastanza semplici linee guida ce ne sono molte ma sul mucinoso sono devo dire tutte concordi è un candidato chirurgico vero ma se guardiamo agli stessi dati con un'ottica non chirurgocentrica ma diciamo così intention to treat e quindi osserviamo anche quei cisternoma mucinosi che non operiamo ebbene questi non sono in realtà mai maligni se sono sotto i 5 cm e se non hanno quella componente solida che vi ho fatto vedere prima quindi esiste ad oggi un atteggiamento anche di tipo osservazionale su queste entità quando sono piccole e prive di queste componenti solide concludiamo la dissertazione parlando diciamo così dei protagonisti assoluti della famiglia delle neoplasi cistiche del pancre se ne è parlato anche prima questo acronimo IPMN quindi neoplasie cistiche mucinoproducenti ancora una volta ma in comunicazione con il dotto principale le dividiamo in maniera un po' diciamo così facile ma ci aiuta questo quando sono neoplasie legate al dotto pancreatico principale e quando invece sono alla periferia e ci serve classificarle così perché quando l'IPMN si trova nel dotto pancreatico principale allora è effettivamente un candidato a chirurgia perché è il rischio di degenerazione maligna diviene assolutamente rilevante però attenzione abbiamo parlato di errore diagnostico dobbiamo essere ragionevolmente certi che si tratta effettivamente di una neoplasia mucinosa e non di una dilatazione del dotto di altra natura e quindi torna ancora una volta il tema del team multidisciplinare della valutazione collegiale non solo delle immagini ma della storia clinica per evitare di portare al tavolo operatorio persone che hanno dilatazioni di altra natura penso a una pancreatite cronica ad esempio e ancora una volta quindi il grande ruolo dell'endoscopista in questo senso concetti molto importanti ma che davvero servono a raffinare la diagnosi e a evitare errori di trattamento che potrebbero essere assolutamente nocivi concludiamo questa chiacchierata con le più importanti e più frequenti neoplasiacistiche voglio dire le IPMN che però troviamo nei dotti periferici e qui abbiamo un dato un numero da ricordare il rischio che queste possano durante una vita evolvere a tumore non è superiore al fatidico 3% che è il tasso di mortalità per resezione pancreatica già questo numero quindi vi fa capire che una policy diciamo liberale in termini chirurgici non è giustificabile in questo caso e per capirne diciamo così la natura mi piace fare riferimento a questa così a questa immagine che viene dall'India dove viene chiesto a un osservatore ben dato come è fatto un elefante è chiaro che dipende dall'area diciamo così anatomica dell'animale che viene a essere sondata solo mettendo insieme le varie osservazioni è possibile effettivamente avere un quadro realistico di ciò che osserviamo e questo lo dico perché sulle IPMN se ne leggono di tutti i colori se date retta a noi chirurghi e leggete le nostre serie chirurgiche sembra che abbiano tassi di malignità enormi ma ancora una volta stiamo attenti questi sono dati che hanno una selezione un selection bias molto importante se ci muoviamo su studi invece di popolazione ecco che il rischio che queste IPMN branch duct dei doti periferici in una vita effettivamente diventino entità maligne diviene molto molto basso tendente appunto all'1% la realtà sta qui sta ancora una volta in quella fatidica biologia di malattia che facciamo così fatica a capire perché idealmente in quella che è la progressione si è parlato molto di genomica in questo caso e ci sono dei pathway in questo caso di alterazioni genetiche che sono coinvolte in questa malignificazione ci dice che la maggior parte delle IPMN percorrono questa alterazione questa scalata fino alla componente invasiva e questo ci farebbe quindi identificare si potrebbe dire idealmente un target che sta in mezzo quindi tra la benignità e la franca malignità questo appunto perché si dice nella comunità scientifica la biologia è regina e se leggiamo i dati in questo senso allora potremmo dire beh hai operato un IPMN quando la displasia era ancora lieve beh forse sei arrivato un po' troppo presto al tempo stesso in chi è sotto osservazione e nel pezzo operatorio si rivela la presenza di un carcinoma invasivo potremmo così autocriticarci dicendoci forse siamo arrivati un po' troppo tardi e quindi potremmo identificare nella displasia di alto grado il perfetto target per la nostra chirurgia le cose stanno così ma vediamo i nostri amici tedeschi sono molto molto aggressivi da un punto di vista chirurgico questa serie viene dal centro che ha la maggiore esperienza in termini numerici di resezioni Heidelberg in Germania e vedete che addirittura i colleghi dicono che se seguiamo queste policy troppe IPMN arrivano al tavolo operatorio quando sono già diventate tumore e quindi c'è diciamo così un invito teutonico a una maggiore aggressività ebbene in realtà i nostri amici gastroenterologici dicono qualcosa di diverso questo è un lavoro appena uscito che vedete ci fa vedere secondo un modello abbastanza complesso quali potrebbero essere le tempistiche per scalare i gradini che vi ho mostrato e si parla di molti anni in questo modello simulato quindi e questo è un editoriale che ho scritto con il mio collega Giampaolo Perri che è con noi oggi questo shifterebbe un po' la nostra mentalità a un intervento che più che essere in tempo deve essere in realtà un intervento giustificato e appropriato oppure no e questo vi faccio vedere un caso diciamo che secondo me è assolutamente così illuminante io l'ho imparato quando ho visto una persona che quando lavoravo a Verona venne operata nel 97 di un IPMN a basso grado e che era tornata da noi per una recidiva dell'IPMN pensate 25 anni dopo praticamente e che ha tolto una lesione analoga che in tutto questo tempo era passata da basso grado a ancora basso grado cioè in 25 anni questa stessa lesione non era di fatto stata in grado di superare queste barriere dovute a mutazioni genetiche e pertanto è vero che c'è una progressione ma stiamo attenti questi sono dei lavori bellissimi di biologia molecolare che ci fanno vedere che sì alcune IPMN progrediranno verso la magnità ma altri non lo faranno affatto perlomeno in una vita altri ancora faranno il salto e quindi passeranno da una disposizione di basso grado a un tumore invasivo e quindi ci ricordano ancora quanto poco sappiamo della biologia e quanto lo dico da chirurgo non dobbiamo inferire dati di biologia da serie chirurgiche altrimenti mi rifaccio al paradosso del gatto di Schrödinger della fisica quantistica siamo nella stessa condizione di definire il gatto vivo o morto solo quando apriamo la scatola e in questo caso la metafora sarebbe con l'addome del paziente quindi non è così che dobbiamo leggere questi dati cosa possiamo fare allora ci possiamo metaforicamente mettere a guardare un film un film che è dato dall'aggiunta anno dopo anno dell'immagine statica che andiamo a fare del nostro paziente e dalla quale ci chiediamo è il quadro stabile oppure no perché stabilità in questo senso è rassicurante stabilità in questo senso vuol dire non evoluzione biologica e in questo modo tantissime persone già adesso stanno vedete andando lungo questa storia naturale fino ad arrivare e qui vi lascio con l'ultima domanda che resta da essere diciamo così risposta che è questa in fondo ma fino a quando dobbiamo proseguire questo follow up perché come vi dicevo prima quello che stiamo facendo non è propriamente sostenibile per così dire e ha anche implicazioni molto importanti non ultime quelle psicologiche beh qualche anno fa ci stiamo diciamo così avvicinando a capire qualcosa definendo queste cistiche che chiameremo triviali nel senso a bassissimo rischio di sviluppare un tumore perché dobbiamo sempre ricordarci che tutti noi siamo a rischio di sviluppare una data malignità per l'aumento della nostra età che rappresenta il principale fattore di rischio quindi se cerchiamo da questo assunto di trovare quelle cisti che non sono e non saranno mai a rischio zero ma che potrebbero non conferire un rischio maggiore alla persona allora forse abbiamo trovato quei target per iniziare a considerare di smettere il nostro follow up lo dicevamo prima questi sono dati da poco pubblicati su cui andrò abbastanza veloce ma che vi fanno vedere che se per tutte le IPMN c'è un rischio effettivamente aumentato di sviluppare un tumore in queste cisti che non cambiano per almeno cinque anni quindi nessuno come avete detto appunto prima sta dicendo di smettere da subito tranne quando il paziente non è un candidato chirurgico ovviamente ma in quelle che per almeno cinque anni non cambiano in maniera sensibile di una virgola allora questo l'avete già visto possiamo iniziare a pensare correggendo per età e per le dimensioni della cisti alcune cluster in cui queste cisti potrebbero essere diciamo così discontinuate in termini di osservazione il che avrà ne sono devo dire molto convinto delle grandi vantaggi non solo per le persone ma anche per il nostro sistema sanitario che dobbiamo proteggere tutti quanti assieme è un bellissimo evento quello di oggi e sono quindi molto contento di come dire chiudere facendovi vedere questa iniziativa che abbiamo promosso con due associazioni di pazienti l'associazione Valsecchi e oltre la ricerca che è un podcast tutti noi ormai nella nostra vita ascoltiamo podcast quando guidiamo quando operiamo e si chiama Pancrastalk ed è un podcast dedicato ai pazienti quindi non vi aspettate diciamo così un linguaggio medichese non aspettatevi così dissertazioni noiose su molecole e marker genetici parliamo ai pazienti parliamo ai caregiver parliamo alle famiglie e vi invito a seguirlo sulle piattaforme di Spotify e Youtube oggi abbiamo fatto il primo release con un'intervista al chirurgo di Fedez e poi al professor Falconi quindi vi invito a condividerlo e magari farlo conoscere a chi suo malgrado purtroppo ne ha bisogno grazie mille resta che facciamo qualche domanda è sicuramente stata eccezionale veramente notevole la tua presentazione molto anche stimolante su un argomento che di per sé può anche non essere immediatamente così exciting quello che se non ci sono domande quello che ti volevo chiedere eccolo là pronto benissimo attimo molto le domande del dottor Pacilio perché lo conosco da 15 anni e abbiamo sempre litigato anche di politica quindi sono molto preoccupato ciao Giovanni io ti volevo fare una domanda proprio sui branch DAC i PMN perché abbiamo un problema nel senso sappiamo che ci sono alcuni che o non hanno worries o high risk e quindi non abbiamo grossi problemi a mandarle a follow up oppure abbiamo quelli con le risk che sono fit li operiamo ma poi c'è un'ampia fetta grigia che è quella dei pazienti con worrisome e non è raro magari trovare anche pazienti che hanno mezza età di mezza età che hanno magari due, tre, quattro worrisome feature in questa fetta di pazienti qui siccome le linee guida di Fukuoka non pongono l'accento ad esempio cioè non cambia l'algoritmo a seconda del numero di worrisome feature che un paziente ha per cui un paziente che ne ha uno equivale a uno potenzialmente che ne ha cinque sei insomma quindi la mia domanda è secondo te esistono dei worrisome più worrisome di altri e se secondo te nelle linee guida dovrebbe essere messo in rilievo anche il numero di worrisome oltre al semplice fatto che uno abbia il worrisome feature e da ultimo se secondo te la via di mezzo fra il follow up e l'intervento chirurgico in pazienti magari molto selezionati noi abbiamo fatto qualche caso può essere ad esempio con tecniche mini invasive ma la chirurgia parenchima sparing o magari in futuro anche in trattamenti locoregionali penso magari all'alcolizzazione o cose del genere grazie 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 a te per la domanda che denota la tua cultura in merito e infatti non a caso conosco anche i tuoi articoli in merito io ti rispondo in maniera un po' provocatoria dicendoti che è evidente la mancanza di evidenza che c'è oggi in merito e quindi quello che facciamo è imperfetto quasi per definizione e attaccarsi a una worrisome rispetto a un'altra denota tutta la nostra perdonami trivialità nel cercare di capire la biologia di queste cisti e secondo me verrà spero presto rimpiazzato da un altro tipo di diagnostica che cambierà radicalmente il nostro atteggiamento che sarà quello ovviamente biomolecolare e che permetterà perché ci stiamo arrivando ora è semplicemente non sostenibile ma lo sta lo sta per diventare di essere di essere molto aggressivi ma su meno pazienti e ti spiego parlare di worrisome ti dicevo parlare di qualcosa che noi vediamo ma che non rispecchia la vera biologia ti parlavo prima di evoluzione quindi sono d'accordo con te più worrisome o meglio vederle sotto i nostri occhi è sicuramente più worrisome che vederle stabili quindi ancora una volta stabilità versus dinamica ma questi test a cui accennavo se ci permetteranno di capire quali cisti evolveranno allora renderanno giustificabili quei trattamenti che dicevi anche in stadi più precoci senza dover aspettare la high grade dysplasia perché devo aspettare la high grade dysplasia in un soggetto giovane se so che questa cisti evolverà e al contempo invece se so che questa cisti non evolverà potrò con grande diciamo con maggiore tranquillità rispetto a oggi anche identificare chi non solo non necessita di intervento chirurgico ma neanche di follow up Giovanni bellissimo la tua relazione io colgo l'occasione su quello che tu stavi dicendo per ringraziare per esempio Raposelli Luca ma il team di Ercolani e il team anche dell'Asda in qualche modo in particolare Carlo volevo ringraziare perché noi siamo riusciti a metter su in un anno circa c'erano posti come obiettivo di raccogliere materiale biologico per studiare perché il deficit biologico di cui tu stai parlando di marcatori di evoluzione clonale di malattia mentre parlavo io sono un ematologo mi veniva a mente la gammopatia monoclonale lo smolder in myeloma e il myeloma conclamato ormai non vogliamo più arrivare al myeloma conclamato con le sufficienze renale e crolli vertebrali con i farmaci che abbiamo anticipiamo molto questo allora perché ringrazio il team di Forlie e dell'Asda perché raccogliere 150 casi in meno di un anno quando ci eravamo riproposti di fare ma soprattutto cominciare a raccogliere il materiale del Virsung in un momento in cui la gastroscopia viene eseguita quindi andare a prendere direttamente dal Virsung quel po' di materiale che noi conosciamo adesso con la biologia molecolare essere fondamentale per fare la progressione noi possiamo mettere in fila le lesioni genetiche e perché queste lesioni genetiche progressivamente si accumulano in alcuni individui e vanno verso un'evoluzione rapida della trasformazione mentre invece sono quelli che come hai fatto vedere tu per 15 anni possiamo tenerla la gammopatia monoclonale del pancreas se mi permettete questa cosa la mia domanda è che siccome tu provieni da una grande università vieni da un grande centro come esperienza che cosa state facendo voi per identificare i determinanti di questa evoluzione e per permettere un domani a tanti medici come noi di poter identificare se siamo di fronte a una cosa che non è soltanto perché la morfologia la radiologia io le apprezzo molto la radiomica però alla fine questo è un processo genetico e quindi come tale deve essere monitorato dal punto di vista genetico almeno questa è la mia opinione assolutamente prof io credo che un microfono puro la magari in senso dalla radiomica si potrà magari passare a un altro tipo diciamo di approccio anche da un punto di vista di imaging il primo passo è quello che ha detto lei è biobancare il primo passo è raccogliere in maniera sistematica e quindi mettere insieme i pezzi del puzzle partendo da questo della prima cosa che ho fatto al mio arrivo a Padova in un setting che lo rendeva possibile da subito dopodiché c'è da mettere insieme questi dati ma non credo che arriveremo ad avere un singolo biomarcatore sia esso diciamo così genomico tu hai fatto vedere quelle immagini della clona evolution esatto quella non è un singolo marcatore quelli sono molti più marcatori e quindi la linea di ricerca è questa quindi è quella di arrivare unendo più marcatori di più livelli ovviamente mantenendo le due chiavi che sono la reliability quindi il fatto di avere un test affidabile ma anche il fatto che possa essere fatto in ampi popolazioni e quindi che mantenga come gli screening anche dei bassi costi questa è una grande sfida tu lo sai che con l'università di Padova e con lo Iov di Padova noi abbiamo il sequenziatore a Bologna quello il big la macchina quella grande insieme in comune proprio per poter fare questi tipi di analisi e in questo momento un esoma lo dico perché magari la gente non lo sa ma un esoma all'Irstimeglio e quindi anche a Padova costa 90 euro costa 90 euro quindi insomma ci si può arrivare una domanda prego ciao Giovanni approfitto la tua presenza per chiederti sappiamo che molte cisti in realtà fanno spesso il tumore sul parenchima e non intracistico pensi che siano la stessa malattia pensi che sia un filone da seguire in ricerca anche questo potrà influire poi sulle scelte del trivial o no? allora grazie alla domanda innanzitutto io credo che la vera entità che sballi l'equazione che ci fa essere così imprecisi nella predizione è il tumore pancreatico concomitante di cui non ho potuto parlare per motivi di tempo ma che è rappresentato da quei soggetti forse per un field defect che per ora è ipotizzato e solo raramente comprovato sono portati a sviluppare nello stesso organo più lesioni e che quindi fanno proprio in prossimità io lavorando per un po' di tempo con dei patologi li ho visti proprio a occhio nudo e sono realtà delle entità se stanti ma che sono fisicamente da un punto di vista spaziale in grande prossimità alla cisti in passato queste entità non venivano nemmeno riconosciute ma sono quelle che ci fanno essere così inaccurati nei nostri modelli predittivi perché sono e ce lo dice appunto la genetica delle entità diverse quindi su queste io credo ci sia ancora molto da lavorare quando la degenerazione avviene invece nella cisti quello che sappiamo è che anche le tempistiche e quindi i nostri intervalli di follow up sono fatte su questo ci rendono più in grado diciamo così di vedere il fenomeno succedere quando invece c'è il cosiddetto concomitant pidac lì si perde veramente la capacità ahimè di definirle e di prevederle e questi sono i casi diciamo che seppur rari non ci dimentichiamo perché purtroppo vengono trovati da un intervallo di follow up all'altro però in quel caso ci rifiutiamo di fronte a entità che sono lievemente diverse grazie Giovanni visto che siamo ormai in ritardo l'abbiamo visto tutti però io credo che valga la pena davvero ringraziare per questa bellissima relazione che dà comunque veramente una grande visione del futuro e anche rimanere per l'ultima parte che mi incuriosisce molto di questa giornata per cui invitiamo la dottoressa Moretti Veronica che ho visto lavorare in un ambito sociologico giusto e il professore Stefano Ratti dell'anatomia professore ordinario di anatomia giusto esatto all'università di Bologna che ci introducono a un tema che mentre prima ero fuori ho cercato di capire cos'era per prepararmi la graphic medicine e quindi sono molto curioso e credo che possiamo veramente oggi chiudere con aspetti anche a noi un po' ignoti come clinici come direttori quindi ringrazio moltissimo chi ha organizzato e chiamato voi per illustrarci questo tema grazie grazie a voi e questa è la parte un po' più ingrata di solito perché è la fine e quindi cercheremo di fare una presentazione che possa appunto come è stato detto incuriosirvi e che peraltro richiama molti degli aspetti che sono stati menzionati e che ha ad oggetto un diciamo un progetto culturale sociale editoriale e poi il mio collega vi spiegherà in che misura che guarda in questo caso la dimensione del pancreas riprendendo un po' quello che il professor Reni menzionava essere la dimensione dell'empowerment quindi quello che sono gli effetti sociali quelli che sono delle condizioni che si creano nella vita di persone che sono affetti da questa condizione nella vita delle persone e anche di tutte le sue reti io sono appunto una sociologa e quindi mi interesso molto di questo aspetto guardando questo titolo il mio intervento parte dalla fine quindi io vi racconto un po' di una tendenza vi racconto un po' di un approccio di qualcosa che in realtà nasce da una passione come forse tante delle cose che accomunano accademici e non ma che si sta trasformando e che sta sempre più entrando all'interno anche della comunità scientifica si parla di graphic medicine si parla di graphic medicine da circa una decina di anni quando un medico illustratore basato nel Regno Unito inizia a sostanzialmente portare la sua passione e la sua professione in un incontro in cui il fumetto agisce come una sorta di ponte di incontro tra quelle che sono delle storie e quelle che sono delle volontà comunicative si è parlato molto oggi in questa giornata della possibilità di comunicare di arrivare anche a diciamo quello che vengono volgarmente definiti non esperti sicuramente dal punto scientifico ma gli esperti a volte di quella che è una condizione che si può vivere come quella di malattia e allora una comunità che sempre più si sta allargando composta da varie figure composta da medici accademici illustratori pazienti caregiver e molte altre figure hanno dato forma e vita a questa diciamo a questo approccio che può essere pensato anche come una sorta passata in media espressione boccata ad aria ci libera un po' da quella camicia di forza che spesso la prosa accademica e medico scientifica ci impone e vuole arrivare sostanzialmente a proporre una visione diversa della medicina e della scienza una visione aperta e che passa sicuramente per l'immediatezza delle immagini stiamo parlando di un mezzo molto fruibile stiamo parlando di qualcosa che combina un doppio canale comunicativo quindi quelle che sono le parole quelle che sono delle grafiche ora dal punto di vista prettamente non soltanto comunicativo ma sociale e quindi di grande interesse queste storie che vengono raccontate sono storie vere non c'è finzione ma si basano appunto su fatti realmente accaduti nella vita dei protagonisti e possono essere sostanzialmente utilizzati e vi propongo adesso anche degli esempi pratici che si realizzano per arrivare con diversi scopi si possono cercare di promuovere e distribuire delle storie per ridurre lo stigma rispetto ad alcune condizioni che sono fortemente caratterizzate da una condizione anche di svantaggio e di vergogna da parte di chi diciamo ne ha abitato dalla patologia possono agire come un veicolo di socializzazione per i caregiver quindi possono aiutare a dare delle informazioni possono in qualche modo andare a raccontare quelli che sono dei fatti ma vedremo assieme sono sempre più utilizzati anche all'interno delle scuole di medicina e all'interno di alcuni diciamo corsi di laurea per professionisti sanitari al fine di potenziare quelle che sono delle caratteristiche spesso anche molto richieste ma sempre più sostanzialmente che ci si aspetta quindi l'empatia la comunicazione la possibilità di aprirsi al dialogo e nella giornata specifica anche di oggi con il progetto poi appunto che vi presenterà il collega vedremo anche come la stessa percezione pubblica del dolore può essere sostanzialmente oggetto di quelle che sono una serie di sfumature che passano su più livelli ora i tre principali utilizzi che possono avere un risvolto pratico chiaramente quindi scendiamo dalla parte dagli scaffali delle librerie e proviamo ad entrare un po' anche in un mondo e una comunità che può metterli in pratica riguardano degli aspetti sicuramente cari a quelli che sono gli studi sulla salute e sulla malattia la narrazione la possibilità di esprimersi di raccontare quelle che sono definite in inglese le illness stories il mio vissuto da più prospettive la possibilità di utilizzare questo tipo di materiale grafico all'interno quindi della formazione medico-sanitaria e poi l'ultimo aspetto che diciamo è anche un po' il cuore di questo intervento riguarda la divulgazione quindi la possibilità di rompere queste barriere ed entrare gamba tesa anche proprio tra le vite di chi non è protagonista di questi aspetti andando velocemente quando parliamo di narrazione che appunto è qualcosa di molto caro a noi sociologi il mezzo del fumetto può diventare può disvelare quello che è un vissuto di dolore quello che è un vissuto anche di disagio della malattia su tre livelli da un lato quello che è il livello manifesto quindi quello che è visibile di una malattia quello che è un disagio che può essere esaltato attraverso delle immagini pensiamo a delle forme di disabilità fisica quindi ci sono dei graphic novel che propongono anche delle scene abbastanza dure per avvicinare il lettore alla comprensione di alcune condizioni la piccola immagine che vedete alla vostra destra è un graphic novel di Fabien Thulmet che è un autore un illustratore e anche il padre di una bimba a cui viene diagnosticata la tresomia 21 e in questo graphic novel si esercita una forza molto terapeutica quasi perché il padre racconta quello che significa vivere in questa condizione quindi dalle varie fasi dalla scoperta fino ad arrivare all'accettazione c'è poi anche un livello che possiamo definire nascosto quindi è un livello che è visibile della malattia soltanto se la si osserva attentamente e che fatica ad essere visto proprio finché non si parla di quelli che sono di disagi importanti dove però lo stigma è sostanzialmente ancora alto e quindi si tende a nascondere ed è il caso come nel riquadro del centro di alcuni graphic novel che affrontano il tema del tumore come ci racconta Marisa Cocello Marchetto una donna un'illustratrice a cui viene diagnosticato un cancro e che si inserisce in una sua vita personale si inserisce prepotentemente anche dei piani futuri doveva sposarsi cambia un po' tutto e quindi parte di nuovo lo stigma per non parlare di alcune diciamo condizioni moralmente cariche come l'AIDS e che vedete in quel bellissimo graphic novel che si chiama Pillole Blu e l'illustratore è il compagno di una donna che appunto ha l'AIDS e che racconta quindi che cosa significa avere questo sempre questo elefante nella stanza questa perenne condizione che si interpone fra la coppia e che anche ha in qualche modo una dose molto moralmente carica dicevo e infine c'è un livello più legato all'invisibile per cui sostanzialmente il corpo non ci dà segni non ci dà dei segnali manifesti ma riguarda tutto il filone delle patologie mentali quindi dei disturbi mentali e della psichiatria come vedete nel graphic novel Marbles quindi diciamo queste sono storie che possono in qualche modo aiutare anche a togliere dei tabù rispetto ad alcune condizioni quando si parla però di narrazioni è molto importante considerare anche l'altra parte quindi narrazioni non soltanto dei pazienti ma anche dei professionisti sanitari che sempre più hanno messo in opera quindi hanno trasformato in delle immagini quelle che sono come the back doctor dei vissuti di un medico che è stanco di pensare di essere un supereroe che è stanco di pensare di essere infallibile e che si lascia andare a quella che è la sua umanità per non parlare del libro che vedete spagnolo Monica Lalanda è un medico e un'illustratrice e con questo libro lei vuole comunicare l'etica quindi è un manuale che serve in qualche modo a dare delle informazioni anche pratiche ora rispetto a quella che può essere anche l'utilizzo all'interno di formazioni in aule universitarie vi faccio vedere due immagini spesso le utilizzo nel mio corso quando insegno infermieristica insegno a sociologia della salute e faccio vedere come ad esempio in queste immagini l'utilizzo di alcune parole e in questo caso la dottoressa nell'immagine in basso cercando di tirare sul morale alla paziente dice dai non ti preoccupare continua così che rientrai tra quel 5% che ce la fa e allora ci fa vedere come questo ottimismo in realtà non è percepito in modo particolarmente felice dalla donna e quindi si cerca di dare un peso anche a quelli che sono dei termini delle parole che statisticamente sicuramente sono rilevanti ma dalla parte di chi non è addestrato a questo linguaggio possono risultare molto impegnative così come a livello posturale questa è un'immagine che faccio sempre vedere stare di schiena ancorché impegnata alla scrittura può generare un po' di ansia perché non si vede quello che sta accadendo ora vi faccio vedere le ultime cose prima di lasciare appunto la parola al mio collega per raccontarvi quella che è un po' la mia ricerca si muove fra l'Italia e gli Stati Uniti dove passo un po' di tempo e dove sto diciamo cercando di affiancare chi per primo ha introdotto in una scuola di medicina un corso completamente a fumetti quindi quello che è l'insegnamento delle medical humanities passa con ad esempio tutto quello che è il disegno e quello che può essere una forma di espressione diversa alla lettura in questo caso gli studenti vedete sono spesso incoraggiati a disegnare queste card specifiche disegnati come ti vedi a interagire con una nuova tecnologia oppure disegna come vedi il tuo futuro come ti vedi nel tuo percorso da futuro medico vedete che la qualità artistica non è importante quindi non bisogna avere delle skills chissà quanto diciamo strutturate e solide ma l'importante si ricerca una forma di espressione che si è trasformata appunto in un corso che accompagna gli studenti dal primo all'ultimo anno e per cui fondamentalmente si cerca di capire cosa posso imparare di diverso anche guardando alle immagini cosa posso imparare di diverso in questo caso appunto ci sono state raccontate molte parti che hanno a che fare proprio con l'osservazione quindi delle competenze pratiche l'ultima slide che vi racconto è che dagli Stati Uniti stiamo cercando e siamo arrivati a Bologna in cui abbiamo organizzato con gli studenti del secondo anno di medicina e del corso di anatomia umana due seminari proprio con lo scopo tema specifico era la donazione del corpo e quindi per vedere e testare un po' questa sorta di strumento grafico come poteva essere in qualche modo accettato come poteva essere anche recepito da chi potenzialmente ha un curriculum molto diverso da questo che vi stiamo raccontando ora quindi in generale questo cappello introduttivo spero possa essere diciamo stato utile a capire il potenziale in questo caso del mezzo grafico anche per raggiungere una popolazione più in generale e io qua mi fermo perché lascerei la parola a Stefano grazie buonasera a tutti siamo arrivati alla fine tranquilli intanto grazie di questo invito grazie ai organizzatori in particolare Carlo Fabri e anche il comitato scientifico di cui fa parte Alessandro Cucchetti e adesso capirete perché è un piacere essere qui dal mio punto di vista in realtà nelle vesti un po' particolari da anatomista parto con delle slide anatomiche di cui non parlerò perché in realtà le immagini che stiamo cercando di creare sono immagini a fumetti questa è un'idea nata dall'incontro di più anime abbiamo oggi toccato tante volte il tema dell'interdisciplinarietà ed effettivamente questo progetto si basa esattamente su questo dall'incontro di più professionisti come vedete ci sono medici artisti ci sono la parte sociologica e la validazione scientifica con l'idea di creare qualcosa un prodotto che fosse utile soprattutto che avesse chiaramente un approccio interdisciplinare ma anche trasversale perché questa idea di fare il pancreas a fumetti in realtà non abbiamo ancora deciso il titolo quindi l'abbiamo messo lì così per adesso nasce dall'idea di raccontare le storie dei pazienti perché sono trasversali i pazienti sono i protagonisti di questa storia di queste storie sono stati intervistati sono potuti raccontare ci stanno dando anche delle indicazioni su come rappresentarsi come disegnarsi quindi a loro viene data anche una certa scelta di cosa vogliono vedere e cosa no e effettivamente come raccontava Veronica questo il mezzo del fumetto è un mezzo molto semplice chiaramente i mezzi semplici sono anche rischiosi perché passano nei messaggi semplificati ma nel momento in cui dietro c'è una squadra che riesce davvero a selezionare e a fare un'attenta coreografia dietro delle storie vere possono essere davvero efficaci efficaci per raccontare delle storie per passare dei messaggi e la struttura di questo progetto vede proprio non potevamo non mettere una parte chiaramente normale all'inizio anatomia e fisiologia normale del pancreas che c'è perché l'idea di riuscire a fare un fumetto che possa raggiungere tutti e tutte e quindi che possa davvero essere alla portata di pazienti familiari ma volendo poi anche di persone più giovani e poi vedete sono riportati alcune patologie perché un secondo obiettivo di questo progetto è iniziare a parlare del pancreas in senso lato quindi il pancreas non è solo una tipologia di tumore ci sono tante malattie diverse riuscire a ridurre lo stigma che si crea come è stato raccontato ricordato prima relativamente a certe storie a certe tipologie di patologia e quindi abbiamo la pancreas attività acuta con la storia di P perché vedrete adesso abbiamo solo le iniziali tranne in un caso in cui il paziente ci ha già detto che è contento che possiamo usare il suo nome adesso stiamo anche facendo un discorso etico importante dietro a questo progetto perché evidentemente non è scontato anche come si approccia a queste nuove metodologie di comunicazione dico nuove anche se il fumetto è chiaramente molto vecchio ma tutta la comunità internazionale che utilizza il fumetto in campo di divulgazione medico-scientifica spesso ha basato sull'autonarrazione quindi come è stato raccontato molte delle opere di graphic medicine vendute sono opere di autore che si racconta a volte un medico a volte no non importa e quindi chiaramente il problema etico non esiste come non esiste neanche l'importanza della validazione scientifica quello che stiamo cercando di fare in Italia è invece mettere a sistema diverse competenze e dare una scientificità anche a queste opere chiaramente diversa perché rimangono e devono rimanere divulgative e quindi vedete pancrete cronica la storia di F tumori cistici a proposito di quello che abbiamo sentito prima adenocarcinoma pancreatico questa è la storia di Stefano e vi farò vedere delle tavole di prova che sta realizzando ha realizzato il nostro artista Farinella tumori neroendocrini la storia di M e poi un compendio finale più artistico se noi adesso qua vi faccio vedere queste sono tavole di prova vedete sono ancora bozze di colori quello che davvero in cui riesce il fumetto è che se voi provate a vedere le immagini io vi leggo pezzi di un'intervista pezzi di un'intervista che sarebbero chiaramente faticosi anche da leggere sono importanti sono storie vere sono storie a cui dobbiamo portare il massimo rispetto e vedere le immagini dà una sensazione diversa quindi io vi leggo l'intervista vi provate a guardare le immagini avevo perso appetito continuavo a controllare il mio colore della pelle il mio peso e persino le mie feci e qua quello che in cui riesce il fumetto io qua è chiaro che molti di voi sono medici probabilmente ci sono anche pazienti in sala o familiari di pazienti ma penso che valga per tutti questo discorso che leggere una frase pesante è faticosa dolorosa è faticosa per tutti a volte guardare le immagini non solo alleggerisce ma ci permette anche di vedere quanto sia normale una malattia quanto sia arrivi nelle case dei pazienti e che sia una cosa che possiamo davvero sperimentare tutti e quindi queste sono secondo noi è un mezzo di comunicazione che può essere effettivamente efficace vediamo questa è una foro un po' più avanzata di una tavola di Stefano anche qua vi invito a guardare le immagini ad un certo punto sentivo come se qualcuno mi puntasse sempre un dito contro la schiena a volte si spostava ma era sempre lì il medico mi disse che dovevo fare altri esami ma di stare tranquillo ma io sapevo già di avere un tumore e qua chiaramente è davvero lo strumento che parla cioè la potenza del fumetto dell'immagine questo dito di tone che spinge nella schiena e ci permette davvero di rappresentare e quindi rendere più facile la comunicazione e qua con un attento studio possiamo anche iniziare a parlare anche di prevenzione di riuscire a passare messaggi importanti per diverse patologie questo è un progetto sul pancreas ma è chiaro che si possa applicare a diverse situazioni rendendole facilmente accessibili a tutti e anziché riportare un'intervista riportiamo dei fumetti quindi una comunicazione più veloce mi sentivo sempre gonfio dopo aver mangiato mi dicevano che era normale essere stressati perché mi stava per nascere un figlio due giorni dopo la nascita di mio figlio avevo chiesto a mia moglie di venire a trovarmi in azienda per festeggiare e una volta fuori ho sentito un dolore rancinante e mi sono accasciato a terra e questo Stefano il paziente ci teneva davvero a raccontarlo a raccontarsi ci teneva che la sua rappresentazione fosse verosimile in queste immagini anche se sono chiaramente questa è la storia evidentemente più pesante di quelle che racconteremo siamo contenti vogliamo che nel vostro volume ci siano storie diverse con anche appunto riscontri e prognosi diverse però è chiaro che quello che noi riusciamo a fare davvero con l'ausilio di questo strumento di questo mezzo è che il fumetto riesce a porsi chiaramente tra le immagini e le parole quindi quella via di mezzo semplice accattivante che però riesce ad arrivare ma riesce anche davvero a mettersi a metà tra il paziente e i medici tra la comunicazione e la parte scientifica e il nostro tentativo è questo di riuscire a lavorare anche su questa parte etica in questa co-creazione di un prodotto non per il paziente tra parte del medico ma assieme ai pazienti con i medici e con altre figure questo è invece l'epilogo del racconto di Bologna siamo partiti sperimentando i fumetti che i nostri studenti di medicina e chirurgia in realtà è il corso in inglese medicine and surgery sulla parte anatomica che ben si presta perché chiaramente è molto grafica e siamo partiti a parlare di donazione del corpo è stato raccontato prima quello che è stato fatto siamo riusciti a scrivere il primo articolo scientifico che vi assicuro è stato faticoso perché far accettare un editore scientifico questo tra l'altro è una rivista con il più alto impatto internazionale nel campo della formazione medica un lavoro che parlasse dei fumetti come strumento e validazione di uno strumento non è stato facile però ci teniamo perché da da accademici in realtà l'obiettivo è la comunicazione la semplificazione ma anche riportare tutto quello che facciamo in una chiave altamente scientifica e di validazione e quindi qua parliamo di donazione del corpo ma speriamo una volta finito il progetto del pancreas di poter fare lo stesso discorso anche per quella parte e qua concludo con questa slide in cui trovate i riferimenti mio e della collega Veronica Moretti e trovate anche sul QR code il riferimento al sito di Graphic Medicine Italia dove speriamo potrà poi arrivare il volume sul pancreas a breve e dove cerchiamo di fare network abbiamo creato questa associazione culturale italiana dove siamo stati contattati da tante associazioni pazienti diverse per fare progetti o semplicemente creare network io non sono un artista e in realtà quello che cerco di fare è mettere in comunicazione diversi professionisti e quindi penso che sia un'ottima piattaforma un buon sistema per fare davvero progetti assieme e con questo vi ringrazio e ringrazio tutti voi per l'attenzione io anche se siamo tardi ci volevo dire una cosa uno ringrazio perché mi hai riconciliato con l'anatomia umana perché quando facevo lo studente io altro che grafic nove non so quelli che hanno la mia età non so se ricordate tutti l'esame di anatomia umana e avevamo ben altre tavole quindi gli studenti sicuramente oggi godono di un approccio più moderno e più interessante e l'altra cosa è questa io nel corso della mia vita professionale ho avuto modo di conoscere Rima Rud di Harvard che è una grande esperta di health literacy quindi di ciò che noi facciamo e questo credo vada in una linea di questo tipo cioè noi in Italia la capacità di comprendere le informazioni sanitarie è tra le più basse del mondo cioè ve ne rendete conto quando voi andate in ospedale e avete un camice ma anche semplicemente sembrate uno che è un po' dell'ospedale ci sono cartelli ovunque e i pazienti i familiari vi chiedono dov'è la scala gialla a Ravenna ci sono le scale gialle rosse cioè è chiaro è giallo forte però il paziente chiede dov'è la scala gialla di fronte alla scala gialla c'è il cartello e questo cioè non si capiscono i messaggi figurarsi quando poi noi diamo spiegazioni tecniche o tecnica a un paziente oncologico specifico in cui la capacità di ricepire informazioni in quel colloquio con l'ansia con la prima visita sappiamo essere ridotte al minimo quindi la capacità di dover avere pazienza ritornare sulle informazioni e veicolare le nostre informazioni nel tempo non più solo in un colpo solo dicendo ah io gliel'avevo detto capito? gliel'ha detto ma quello c'è un emittente un ricevente forse qualcosa non ha funzionato ma tutte le nuove metodiche se io ho fatto un piccolo progetto con delle videopilole con delle animazioni per la tossicità da immunoterapia che abbiamo fatto così perché i modi con cui noi dobbiamo veicolare le informazioni tecniche tv nei vari ambiti che avete già espresso è estremamente rilevante perché ne va della noi non ci basiamo ce ne fregamo molto come clinici l'abbiamo detto amen in realtà non è vero perché tutto ciò che non viene detto non viene percepito ha una ripercussione nell'aderenza ai trattamenti a molti aspetti clinici quindi vi ringrazio molto di questo vostro lavoro perché insomma io lo apprezzo molto perché dopo tanti anni capisco che quello che dico in ambulatorio devo avere una grande pazienza e sicuramente anche l'approccio a come oggi la gente percepisce la comunicazione che è estremamente rapida tutti guardano video su youtube la capacità di concentrarsi la capacità di leggere è cambiata totalmente noi dobbiamo intercettare anche i cambiamenti di sociali sociologici che portano a un nuovo modo anche noi di comunicare penso anche ai nuovi futuri medici è molto importante quindi io voglio solo fare un commento non ho domande perché sono ormai le sette e se no mi ammazzate quindi bene bene se ci sono domande anche a Veronica volevo ringraziare anch'io perché sicuramente è uno strumento assolutamente utilissimo parlo da medico nucleare mi sono già un attimo così ipotizzata quale potrebbe essere come potrebbe essere impattante questo ad esempio anche per dare le informazioni giuste riducendo un po' tutto questo alone di problemi che spesso noi dobbiamo avere con i pazienti ora io parlo da medico nucleare le radiazioni cernobil oddio oddio quindi noi abbiamo fatto un'esperienza del genere creando un video non grafico ma un video però direi che forse è molto accattivante anche l'aspetto di farlo in forma grafica quindi prenderò la mail intanto grazie parlo immagino anche a nome di Veronica ed effettivamente rispetto al video un piccolo commento ci siamo accorti dagli studi ma anche da quello che ci ha raccontato che è anche facile immaginarlo è molto più facile rappresentarsi impersonificarsi con qualcosa che è lontano da un'impersonificazione di qualcun altro quindi con un fumetto piuttosto che con invece il volto di qualcun altro quindi effettivamente il fumetto si cade davvero bene in questo strumento di comunicazione perché tutti ci possono leggere dentro grazie invitiamo gli organizzatori a chiudere l'evento grazie penso che ci sia un saluto finale o no? sì sì cerco di cerco di essere veramente breve io vorrei chiudere a nome anche di Carlo e di Giorgio facendo i ringraziamenti grazie di aver trascorso di aver potuto trascorrere una giornata estremamente interessante grazie alla segreteria scientifica perché torna a dirlo ancora una volta è stato un programma di alto livello grazie ai relatori che pur nella loro diversità hanno ci hanno permesso di avere una visione d'insieme grazie a tutti i sanitari che nella nostra zona lavorano ogni giorno nei percorsi interaziendali il passo successivo sarà un coinvolgimento ancora maggiore di medicina generale che noi vogliamo coinvolgere già nella creazione nel completamento dei nostri PDTA ma li vorremmo coinvolgere anche direttamente nei nostri gruppi multidisciplinari cioè permettendo a loro di intervenire presentando i loro casi clinici grazie ai ricercatori che stanno studiando stanno partecipando a bandi stanno portando avanti la ricerca senza di quali veramente noi non possiamo sperare di migliorare la nostra potenzialità grazie all'associazionismo e ai volontari che hanno dimostrato anche oggi di essere fondamentali e infine io vorrei ringraziare innanzitutto l'agenzia che ci ha supportato la signora Denise anche tutti gli sponsor non solo quelli tecnici che ci permettono di acquisire delle tecnologie sia in temi farmacologici o strumentali non solo i volontari le associazioni di familiari ma anche questa è stata una novità molto interessante oggi anche dei gruppi di cittadini che pur non essendo diciamo coinvolti in questo tipo di patologia hanno dimostrato una sensibilità anche economica e ci hanno supportato nell'organizzazione di questa giornata alle due e mezza dicevo solo con la sensibilizzazione della nostra comunità romagnola noi riusciremo a migliorare quindi sostanzialmente il messaggio è questo solo se noi continuiamo a essere uniti a stare insieme e lavorare pur nelle nostre diverse competenze alle diversi settori noi potremmo forse pensare nel breve di riuscire a migliorare i nostri outcome clinici grazie a tutti alla prossimo anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti